Stefano era molto seccato. Giunto il sabato sera, veniva a sapere che, per nuova disposizione dell'orario, in collegio si riceveva soltanto il giovedì. Gli restavano davanti quattro giornate da buttar via, lasciando a casa cento affari in pendente. Quasi urgente, per l'asciagura dei loro figli, rimasti tutti e due sotto la frana, la necessità di assegnare una piccola mesata, una specie di vitalizio, ai vecchi lo barba per impedire che volessero ricorrere alla legge. «Verranno proprio venerdì», si rammentò, «e a riceverli ci sarà papà, che non intende come siano cambiati i tempi. E poi il fatto dei bovi rubati, i manderini da spedire, il viaggio a Palermo, fissato per la fine del mese. Il tempo non basta», osservò rapidamente. «C'è Antonio», pensò, e un'ombra di gelosia gli passò sulla fronte. Ma subito si rasserenò, quasi inorgoglito. Nessuno veniva a una conclusione senza sentire il parere di Stefano, il quale aveva la laurea di avvocato e, quel che più importa, considerava suoi gli interessi della casa paterna. Camminava a testa avanti come se portasse i pensieri sulle spalle. Inciampando nel binario, con il rischio di farsi schiacciare, restando imprigionato tra un legno e un'automobile, mandò qualche espressione poco benevola a zia Fifi e alla sua velleità di tenere Ninetta a Firenze, come se in Sicilia fossero finiti i buoni collegi. In novembre, zia Fifi accompagnava la sua unica figlioletta e, tornando, si raccomandava a lui. Ripeteva, spremendo molte lacrimucce. «Col tuo comodo, cuor mio, non ti dico di andare a farle visita più di una volta. Ci fosse la buonanima di mio marito, non ti darei tanto impiccio. Se mi dici di no, chi darà un occhio alla mia creatura, Stefanuccio? Non è bene che lassù vedano sempre una povera donna, un uomo incute altro rispetto. Amara me, che son rimasta debole e sola». A donna Lucia non piaceva affatto che il figlio andasse in continente. Egli era un ragazzo serio, fedele a Giovannina come se fosse maritato, e la sua avventura di Palermo era bastata a fortificarlo per sempre, come il bagno che si dà al panno perché non stinga più. Ma il continente è pieno di insidie. Tuttavia, trattandosi della sorella straricca e generosa, si piegava anche lei, ripetendo ogni volta. «Che farci, cuor mio? La zia è buona e non le si può dire di no». Così, quando gli pareva che in campagna ci fosse meno bisogno di lui, Stefano si metteva in viaggio. Cercava nella guida il caseggiato dove Ninetta viveva in gioconda prigionia. Andava in parlatorio e lì, deciso a mostrarsi gentile, segnava pazientemente le svariate e infinite commissioni. Le imbasciate che la collegiale andava ricordando e radunando in fretta. Due anni. Tre visite. Era sempre venuto il sabato sera per ripartire il martedì, senza perder tempo. La sua scervellata cugina avrebbe dovuto avvertire che l'orario era cambiato. Come passare la serata domenicale più lunga e più uggiosa delle altre. Guardò i tavolini di un caffè, così affollati da non lasciargli un piccolo posto vuoto. Rallentò il passo per contemplare i cartelloni di un cinematografo che annunciavano «La perla del deserto, emozionante dramma passionale» e ripigliò ad andare in fretta contrariato. Un tram rosso filava portando un cartellino con l'avviso di una festa all'aperto, una festa che lo interessava poco, in un luogo che non conosceva. Pensò a una poltrona a teatro. Senza muovere le labbra ripetè un motivo che calmò un poco il suo malumore. Per associazione di idee gli venne in mente una maestra di musica che insegnava nel collegio di Ninetta. Una signora alta, magra, dalla faccia intelligente e i capelli bianchi. Lo aveva invitato con insistenza. «Venga a trovarmi se torna a Firenze». Si chiamava Derrou, Darrou. Ma lui, sempre ordinato e previdente, aveva certo segnato l'indirizzo nel suo inseparabile taccuino. Eccolo, infatti. La signora del Rouat gli fece gran festa. «Che sorpresa! Che magnifica sorpresa!» ripeteva versando il tè fumante nelle tazze. Stefano, già pentito di essere entrato in una casa che non conosceva, si domandava perché mai la Derrouat si mostrasse così entusiasmata di ricevere un uomo che non era né un amico né un parente. Guardandosi attorno, sbirciava con una specie di fastidio i fragili mobili chiari, i molti cuscini, i moltissimi ninnoli, i minuscoli tovaglioli di Trina. Anche Maria Luisa si era messa a fabbricare piccoli tovaglioli rotondi, oblunghi, semi quadrati, che non servivano a niente e forse non sarebbero stati adoperati mai. «Credevo che mi avesse dimenticata», continuava la signora del Rouat. «È venuto ieri sera? Si fermerà qualche settimana, immagino. No, vuole scappare subito via. Dice davvero. Io adoro i siciliani. Ma lei è un orso, un vero orso. Aspetti, non mette un po' di latte?» «Non le va. Preferisce rum allora? Un gocciolino, così, e due paste. Gran fortuna che non mi abbia dimenticata. Pensavo, il signor mente sana, una volta fra i suoi, non vorrà saperne di questa amica troppo vecchia. Vorrebbe dire che non sono troppo vecchia?» Stefano, alzata la fronte, la esaminava con la schietta e impertinente curiosità di un ragazzo. La chioma, così bianca e folta che pareva una parrucca, il collo lungo e grinzoso che aveva lo stesso colore del bavero di seta nocciola, le mani disseccate, tutto nella persona della Del Rua, rispondeva alla improvvisa domanda. Cercò allora qualche complimento non troppo banale. Ma l'altra non aspettava che l'ospite si decidesse e ripigliava. «Una sigaretta? Ah, sentirà. Ne faccio io, con un tabacco speciale, profumato, che mio fratello mi porta dai suoi viaggi. E ammiraglio, mio fratello. Magnifica carriera. Crede che gli amici vengano per me? Ma che? Per fumare le mie sigarette. Deliziose!» Schiacciò fra le dita, un po' brune, una sigaretta, la prese fra le labbra e domandò un fiammifero. «Dunque non è nuovo di Firenze? Ma se scappa via così subito? Oh, lei non gusta le mie sigarette. Non le piace fumare? Sì, allora fuma la pipa». Dopotutto, con la sua parlantina irta di domande che non pretendevano risposte, la Del Rua non era molto noiosa. Certo, era meno noiosa di zia Fifi che si ostinava a mandare la figlia in continente. «Sa che è un bel tipo. Parché abbia lasciato la testa chissà dove. Non ode, non vede. Ah, i giovani. Senza volerlo sono scortesi. Le domandavo di santo spirito e lei zitto». Invece di scusarsi, Stefano si divertì a suscitare lo sdegno della maestra di musica. «Ma lei bestemmia, signor mente sana. Io mi dolgo solo di questo, vede, di non essere nata qui, nella città dei fiori. Ah, se io fossi fiorentina? Non la capisco davvero. O è un barbaro? Ma no, ma no. È innamorato. Né barbaro né innamorato. Sono un campagnolo e preferisco un bel vigneto a una chiesa antica e un bosco in ottobre a una pinacoteca. Ma lei non è sincero. Ma lei è un futurista. Ma lei è una persona insoffribile». Lo interruppe la vecchia signora soguardandolo con simpatia attraverso una piccola chiara nuvoletta di fumo. Come credere che quello sguardo improvvisamente abbuiato da un pensiero, improvvisamente illuminato da un sorriso che giungeva appena fino alle labbra, ora freddo e duro, ora velato di dolcezza, non si volesse posare sulle cose belle. Le sarebbe davvero piaciuto sapere quanto gli frullava pel capo. Anche la sua figlioccia, aveva proprio dimenticato di avere una figlioccia così grande, fingeva di custodire un segreto dolore in fondo al cuore non pieno d'altro che della lontana speranza di trovare marito. Fabiana, dopo tanti anni di silenzio, le aveva scritto una lunghissima lettera infiorata da molte frasi che cercavano di abbellire o almeno di attenuare la verità. Ti raccomando la piccina che viene con i Charlie per conoscere Firenze e la sua buona madrina, aveva scritto, che tu e il tuo salotto siate la fortuna della mia franca. Sei così intelligente che non aggiungo altro. E in due foglietti non aveva fatto che aggiungere, povera Fabiana rimasta la stessa, tutte misure e reticenze. Un'idea più rapida di una stella cadente nel cielo d'agosto le passava per il capo. «Allò, signor Montesana!» esclamò. «Le presenterò qualcuno che le farà piacere. Una figurina di ceramica, le assicuro. Donne, non voglio conoscerne. Non faccia l'orso, non scappi via!» Ma egli non aveva alcun desiderio di tornare a vagolare per le strade sconosciute, cercando un rifugio nella città sconosciuta. «Ecco vecchie signore che somigliano alla maestra di musica, e signore mature dalle gonne corte che parevano ragazze invecchiate, signorine senza età, uomini vestiti di nero. Fra gli uomini se ne distingueva uno, armato di un grosso occhialino che la del Roa presentava con elogi stragrandi. Poeta basilisco, ingegno eccezionale. Il suo volume di prose liriche sarà una rivelazione. Il titolo, caro Periglio, il titolo!» E il poeta con un occhio, inchinandosi così profondamente come se avesse voluto offrire a qualcuno la testa impomatata, ripeteva con tono misterioso il titolo del suo libro. I discorsi giravano attorno a concerti che Stefano non aveva sentiti, a libri che Stefano non aveva letti, a luoghi che Stefano non aveva mai veduti. Meglio andarsene. Anche la maestra di musica lo aveva dimenticato. Di tanto in tanto lo fissava con l'occhialetto e pareva volesse domandargli chi fosse. Meglio andarsene. Preso dall'umiliante senso di stizza, che provava sempre restando in mezzo a estranei, riuniti in conversazione, e dall'irresistibile bisogno di muoversi, di stendere le braccia, di uscire da quella gabbia di matti e di pappagalli, fece per alzarsi. Ma la del roi, che lo sorvegliava senza parere, lo trattenne, offrendogli un'altra tazza dell'esotico decotto che piaceva a tutti immensamente. «Un gocciolino di rum? Così!» Le assicurò, signor Mentesana. «Oh!» si interruppe. «Care, care!» Lo presentò trionfante alla signorina Gaudelli, alla signorina Charlie, che aspettava. Due bambole. Bionda e più alta l'una, con un volto di bimba docile e scontenta, velato dall'ombra del gran cappello nero. L'altra più piccola, una corta frangetta castagna sulla fronte, il nasetto all'insù. Graziose l'una e l'altra. Ma la del roi, chiamandola per nome con esagerata premura, si studiava di raccogliere su una sola l'interesse di tutti. E gli sguardi di avida o di fredda curiosità maschile, le gelose occhiate femminili, andarono sulla bionda come i raggi di un fascio di luce che si vuole fare cadere su un quadro. La figurina di ceramica. Stefano fu assalito con violenza dal capriccio di condurla via perché non la guardassero più. Si alzò di scatto. La del roi sussurrò misteriosamente. «Ah, signor mente sana, sentirà della musica divina!» La signorina bionda sedette sul rotondo sgabello, aprendo lentamente un fascicolo sull'eggio. E poiché Stefano si piantava presso il pianoforte, pronto a voltare le pagine senza averne domandato il permesso, lo soguardò con un po' di sorpresa. «Il poeta basilisco!» mormorò, aggiustandosi il grosso occhio di vetro. «Il è bien gauche!» L'altra, che si era levato il cappellino, mostrando i capelli corti a zazzera, cominciava a cantare, lasciando le braccia abbandonate lungo i fianchi. «Ninon, ninon, que fais-tu de la vie!» Il suo gracile petto, gonfiato dal canto, faceva pensare ai piccoli uccelli che han tante penne, tanta voce nella tiepida gola e così poca carne. La prediletta della Delroa suonava con passione, senza guardare la musica, e le rose e gote, sotto l'ala del cappello di merletto nero, diventavano più rosee per questo. Guardata di profilo, con gli occhi bassi, non somigliava un poco a Valeria. La fuggevole somiglianza gli diede un senso di angoscia. Si udì un confuso mormorio. «Deliziosa! Adorabili!» Stefano si affacciò. I profumi, il troppo tè trangugiato, il ricordo di Valeria lo opprimevano. Guardando il cielo, ancora chiaro, pensò alle notti stellate, al cielo nero e fondo del suo paese, cielo nero, tempestato di stelle animate ed eloquenti, che non si potevano fissare senza la paurosa impressione che il loro tremolio dovesse attirare verso le altezze infinite. «Va via, signor Mentesana! Così presto! Tornerà domani sera?» «Va di che l'aspettiamo!» «Franca, carina, tu suonerai qualche cosa per il signor Mentesana che adora la musica!» «Fanny, se non ti dispiace, sentite!» Confabularono in tre. Franca tornò al pianoforte. Fanny cominciò. «Ah, Santuccia!» «No, Santuzza non ha la stessa voce di Ninon!» «Ah, Santuccia!» «Taci, Fanny, non provarti a cantare la passione di Santuzza!» Franca diceva. «L'abbiamo contentata?» Sorrideva con grazia, guardandolo. Ebbene, i suoi occhi, nell'ombreggiatura del cappello di Merletto non erano occhi di bambola. Stefano uscì subito dopo aver fatto colazione, ma guardando l'orologio si accorse che prima di un altro paio d'ore non poteva presentarsi in collegio. «Ah, zia Fifi, mi hai colto per l'ultima volta!» Girellò un pezzetto, infine si fermò affacciandosi a guardare l'arno. Lo splendore del sole dava un colore di smalto all'acqua verdastra. La gente che passava lasciandosi dietro il sussurrio del suo musicale accento pareva parlasse forte per dare gioia a chi udiva o per dire solo cose belle. Nel cielo, leggero, leggero, passavano lentamente piccole nubi di afane. «Come tutto è gaio, fresco e gentile quassù», pensò. «Come tutto è diverso». Una vecchina, decentemente vestita, domandava l'elemosina stendendo un fogliolino scritto a mano. Le offrì del denaro. «Che il cielo la protegga, signore!» balbettò la mendicante allontanandosi. «Che il suo desiderio più bello venga esaudito!» Egli guardò l'acqua verde, il cielo di Afano, l'altra riva, come per domandare alle cose quale fosse il suo maggior desiderio. Ne aveva qualcuno ben delineato. Dentro l'anima, uscita dallo spasimo dell'impianto, ogni aspirazione era imprecisa e nuova. Perché si era sempre annoiato, invece di ringraziare zia Fifi che gli dava l'occasione di venire in continente. «E' così, è inevitabile che sia così», osservò rapidamente. «Se ognuno pensasse a godere ciò che è piacevole e vicino, senza accruciarsi, con le previsioni di domani o col ricordo di ieri, quanto saremmo più felici?» Eppure è sgradevole camminare senza scopo in mezzo a una folla di estranei. Esitando entrò in un caffè. Domandò un poncio e subito si pentì, guardandosi in giro. Chi si faceva portare la birra spumante? Chi prendeva la cioccolata? Chi sorseggiava il caffè? Quasi nessuno chiamava un poncio. Chi ciarlava con gli amici? Chi aveva delle donne in compagnia? Bello condurre una donna e domandarle offrendole la lista. Che cosa preferisci? Quello che vuoi tu. Rivide Maria Luisa e la madre. Bello condurre Maria Luisa che sgrana gli occhi a ogni piccola novità. Ma è più bello andare con un'altra. Chi? Si guardò intorno, come quando aveva scelto nella lista. Chi birra e chi caffè, e molti una graziosa e elegante donnina. Le donnine del caffè gli piacevano tutte e non ne desiderava una. Chi bionda e chi bruna gli somigliavano tutte fra di loro. Gli stessi dentini, gli stessi occhi allungati e ingranditi, le stesse labbra dipinte. Tutte ben preparate, come certi dolci che fanno bella mostra nelle vetrine e a mangiarli debbono lasciare la bocca amara. Si alzò bruscamente e si danò in fretta. Per la prima volta, da quando si era messo in viaggio, pensò a Giovannina che l'aspettava, umile e devota, le avrebbe comprato una bella sciarpa rossa. Ma prima doveva levarsi il pensiero della visita in collegio. Troppo presto ancora. Ebbene, perché tanta furia? Per partire. Per partire la notte stessa. Fur allegrato dall'idea di lasciare finalmente la città bellissima e tornare alle solite occupazioni, in mezzo a gente conosciuta che lo conosceva. Zia Fifi non avrebbe trovato mai più Stefanuccio disposto a dare un occhio alla cugina. Stefanuccio era un uomo che l'ozio lo snervava peggio d'una malattia. Sedette su una panchina con le mani sul pomo del bastone. Una ragazza gli passò davanti due o tre volte, portava un gran mazzo di giaggioli tra le braccia e lo guardava con un invitante sorriso sulle labbra dipinte. Le labbra accese nel volto senza sangue e gli occhi ingranditi facevano pensare a una malinconica maschera. Stefano si alzò e le camminò al fianco senza sapere precisamente perché. Lo scirocco, il profumo dei giaggioli mescolato al forte odore di cipria, la solitudine della strada, gli comunicavano un senso di stordimento. Ma non provava alcun piacere a seguire la femmina. Rallentò il passo quasi disgustato di se stesso ed entrò in una piazza affollata. Mancava appena mezz'ora. Si avviò col passo fermo e spedito di chi ha una meta verso il collegio. Doveva partire a mezzanotte ed era prestissimo. Senza volerlo passava davanti il portone della Delroy. Meglio così, dopo tutto, avrebbe salutato la sua bizzarra amica. «Bravo, signor Mentesana», ripeteva la maestra di musica con entusiasmo. «L'ho aspettata ogni sera e ho pensato male di lei. Ho detto, il signor Mentesana se ne è andato all'inglese. Invece lei è un fedele amico. Non si spaventi, non le offro del tè. Lo so, lo so. Neppure un bicchierino di rosolio? Niente? Caffè? A quest'ora», esclamò perplessa. «Vada per il caffè». Le poltrone vuote, il pianoforte chiuso, le lampadine spente. Troppo presto. «Perché non è più tornato? L'abbiamo aspettata. Queste sere scorse non c'era nessuno con noi. Una intimità deliziosa, spirituale. Oh, io soffro a vedere troppa gente nel mio salotto. E la mia Franca è la stessa. Ma io sono costretta a tirarle un po' le orecchie. Me lo domanda? Lei è perfido, sa. Vuole fare l'ingenuo. Lei ha certo dimenticato la sua vittima. Dopo averle fatto perdere la testa. Ascolti», esclamò con improvvisa serietà. «La Gaudelli è un'anima sensibile. Non vorrei che per causa mia, povera Franca, ha già tanto sofferto». «Ma», volle replicare Stefano. «Vede, non sarebbe possibile per tante ragioni», continuava la Delrua senza badargli. «È orfana. Vive con una zia che le ha fatto da mamma. Hanno delle proprietà. Insomma, non sarebbe possibile. Suo padre non la lascerebbe andare così lontano». «Volevano metterlo nel sacco?» «Le assicuro», ripetesse Cato. La Delrua lo interruppe. «Ha sentito, Marinetti? È davvero ipotant!» Stefano volle andarsene senza aspettare il caffè preparato apposta, ma esitava, pensando che fuggire era una cosa ridicola. Intanto una ragazzina in grembiule bianco posava un piccolo vassoio sul tavolino, e la Delrua gli offriva una minuscola chicchera color di rosa. «Oh, bravo! Che gusta le mie sigarette!» Molto probabilmente la maestra di musica aveva già dimenticato la sua frivola allusione. «Ecco delle visite. Qualche persona che Stefano conosceva, il poeta Basilisco, e due o tre signore. Qualche faccia nuova. Ma i saluti, i gesti si ripetono come in una rappresentazione di marionette. Ecco anche Franca e Fanny. Stefano si avvicinò al pianoforte come la prima sera. Voleva che la Delrua e la sua frivola protetta lo vedessero tranquillo e pieno di indifferenza. Franca si spuntò il cappello come Fanny. Anche lei portava i capelli corti, ma la pettinatura infantile non si accordava col suo volto fine che restava serio anche se rideva. Senza cappello riuscì quasi sgradita a Stefano, che perciò si sentì più padrone di sé, come un uomo che si lasci legare i polsi da un bambino, così per ridere. «La musica le piace dunque molto, mi dicono», gli domandava Franca. «Non sempre». «Non sempre». «Solo quando ha la forza di commuovere». «Allora le canzonette napoletane, tanto graziose». «Anche le canzonette, se chi le suona ha sentimento». «E se chi suona non sente niente?» «Può fare a meno di stancare le orecchie del prossimo». Franca rise, aprendo un quaderno sul leggio. «Il sentimento solo non basta», disse, alla bravura d'una musicista. «Se la sentisse la signora del Roi». Anche lei era perfettamente tranquilla. La sua molle risata, un po' canzonatoria, sconcertò Stefano che riudiva, con insistenza, le moleste parole della del Roi. Franca suonò, poi si girò con grazia sullo sgabello per rispondere agli elogi e alle esclamazioni degli amici. «Brava!» le disse Stefano semplicemente. «Crede che abbia suonato consentimento?» replicò Franca, tornando a girarsi. Stefano la guardò. «Ma che, ma che!» ripetè Franca sorridendo. «Non sta bene commuoversi per davvero». Sfiorando i tasti senza suono, aspettava con gioia che egli le facesse un po' di corte. Ma Stefano, punto dalla sua tranquillità, non apriva bocca. Senza alzare gli occhi, lo aveva già esaminato dalle scarpe ai capelli. Era simpatico. Si sarebbe detto un contadino, col suo abito chiaro da mattina, il suo parlare asciutto, se non avesse mostrato sfogliando una bellissima mano, forte e magra. «È da poco tempo a Firenze?» gli domandò per farlo parlare. «Da sabato sera». «La prima volta, immagino?» «No». Franca sorrise. Era timido. Il sorriso le smorì fra le labbra nel sentirsi guardare con gravità quasi severa. Ma ella, che aveva imparato a non perdersi d'animo, continuò pazientemente ad avviare una conversazione qualunque. Una fila di domande e di risposte che le pareva di ripassare i dialoghetti della grammatica francese. E faceva un vero sforzo per non ridere. «Viene per una cugina!» esclamò, lieta di avere finalmente trovato un argomento. «Una cuginetta chiusa in collegio!» «È una bambina!» rispose Stefano. Si vedeva, da un aggrottare della fronte, che la maliziosa osservazione gli era dispiaciuta. «Io sono quasi siciliana», raccontò Franca, cercando di fargli piacere. «Le pare strano?» «Eppure sì. Il babbo no, ma la mamma era di Siracusa. Deve essere bella la città della mia povera mamma!» «Lei non ha visto Siracusa? Un siciliano!» «La Sicilia è ben grande», fece Stefano. «Ha ragione. A vederla sulla carta pare un'isola piccina piccina!» «E invece», esclamò Stefano. Esitò, si interruppe. «Lei vuole molto bene alla sua isola», osservò Franca. «Chi non vuole bene al suo paese. Io, per esempio, che non capisco l'attaccamento a questo o a quel luogo. Si figuri. Toscano il babbo, siciliana la mamma, io cresciuta in un paesino delle Marche, ora stabilita in una città di provincia in Toscana. Senza patria, insomma». Raccontò di essere venuta con la famiglia Charlie per distrarsi, aggiunse. «Come se bastasse per dimenticare!» Sospirò, fingendo di essere improvvisamente rattristata, soddisfatta nel sentire un'inquieta curiosità nel silenzio di lui. Ma come i suoi occhi celesti si incontrarono nel severo sguardo di Stefano, impallidì, smarrita, sopraffatta dall'assurda paura, dolorosa e piacevole, che egli dovesse afferrarla, stringendosela sul largo petto. Fuori, sotto la lampada elettrica, Fanny la canzonava. «Ti ritrovo, mia inconsolabile è desenscente! Ti è piaciuto?» «Che cosa?» «Il siciliano, oh bella! Non sai che è siciliano?» «E perciò? Ti hai ipnotizzata? Hai perduto la favella?» «Smettila, Fanny, non ho voglia di scherzare!» «Come sei tragica! Se ti consoli così presto, tua zia benedirà Firenze, o meglio, la conca d'oro!» «Smettila, Fanny, te ne prego!» «Atto primo, scena prima!» «Cara la mia Franca, tu sai che la tragedia salta fuori solo all'ultimo atto! Per piacere, Fanny, ho molto sonno, ecco tutto!» Era troppo tardi per ripartire la stessa notte. Andò al telegrafo, suonò il campanello a malincuore, scontento, riempì il foglio. Lo sportello dell'ufficio si richiuse subito, quasi avesse inghiottito le sue dieci parole contate. «Era fatta! Inutile pentirsi oramai!» E si allontanò a piccoli passi pigri. «Perché essersi andato a chiudere in un salottino invece di mettere nella valigia i doni preparati per Maria Luisa? E perché telegrafare invece di cercare una nuova partenza di treni nell'orario ferroviario? Tutto ciò non era degno di lui?» «È la stessa cosa», si disse. «Partirò domani sera». Ma questo proposito non lo liberò dal malumore. Si domandò, improvvisamente turbato, se non si fosse lasciato prendere nel sacco. «Lui?» Franca non aveva affatto perduta la testa, come diceva la del Roi, e neanche lui, tutto dedicato alla casa, agli affari lasciati in pendente. Il suo malumore si chietava rivedendo il grande studio, dal parato chiaro e dalle due finestre piene di luce, dove era aspettato. Subito il suo pensiero tornò a Franca. Era bella? Forse no. Una signorina come un'altra. Mi sarebbe piaciuta se non avesse portato i capelli a zazzera e un abito troppo corto e scollato. «La farei pettinare a mio gusto», si disse. Ma riudì la molle risata un po' canzonatoria e si abbuiò. A poco a poco pensò, con una punta di gelosia, ad Antonio, che si era fatto una famiglia sua, amministrando per conto suo la sua parte di roba, mentre lui si contentava di essere il socio di papà. Il tempo che nelle famiglie si faceva prendere moglie al solo primogenito era finito. Madonna Lucia Mentesana faceva rivivere questo tempo nella sua speranza, con sottile accortezza, legando il figlio alla vecchia famiglia, col circondarlo di premure e di comodità, e col fargli credere che lui fosse necessario a tutti. «Assieme a tuo padre», gli diceva, «tu sei la colonna che ci sostieni». Tutti erano convinti che Stefano sarebbe vissuto scapolo. «Bello è spezzare la certezza degli altri come un balocco. Papà avrebbe dovuto consegnargli la roba che gli apparteneva. E la madre?» «Cara mamma, Giovannina, che tu copri di regali per gratitudine, non mi può impedire di diventare anch'io un capo di casa e si rassegnerà». Ma di nuovo pensò a Valeria, che lui avrebbe adorata in ginocchio e dai suoi volgari tradimenti. Franca le somigliava un poco di profilo, secchinava il capo, solo un poco, quanto bastava per provare un senso di acuto fastidio. Che cosa doveva dimenticare Franca? Il suo volto di bambola era roseo come l'ingenuo volto di Valeria, e i suoi occhi celesti erano sereni come gli occhi grigi di Valeria. Franca, che si divertiva per dimenticare e cercava la compagnia di gente che non gli somigliava e viveva in paesi che lui non conosceva, era la sorella spirituale di tutte le signorine moderne. «Eccolo!» esclamò Fanny. «Lo chiamo, ci faremo accompagnare». «No, Fanny», rispose Franca. «E non ridere», aggiunse, agitata dal timore e dal desiderio che Mentesana, fermo davanti a un'edicola, avesse voluto raggiungerle. «Non ci vede, non vede altro che male», disse forte Fanny, allegramente. «Il cuore non gli dice niente». «Ma taci», murmurò Franca, frettando il passo. «Non mi fare correre», fece Fanny. «Non ti scordare che le gonne sono troppo strette». E la sua risata scoppiettò sommesse e vivace come il delicato tintinio di un campanellino. Rideva sempre Fanny, i suoi occhi chiari e sporgenti, lucidi come la porcellana, e le labbra un po' grosse ridevano continuamente. In casa, fuori, al cinematografo, al caffè, a teatro, nei salotti delle amiche. La preoccupazione di farsi credere spensierata era diventata un'abitudine così forte che ella sorrideva anche mentre era sola, anche se le raccontavano cose poco allegre, anche se il pianto le stringeva la gola. Franca non si era mai accorta che l'amica ridesse a sproposito. «Non continuare», pregò. «Stasera andiamo finalmente anche noi a teatro», esclamò Fanny senza badarle. «Oh, ti dispiace? Pure lo desideravi?» «No, no, ma avevo promesso alla Delroix che sarei andata». «Lo so, lo so». «Lo sai? Non puoi saperlo». «Lo so che ami teneramente la tua madrina. Ebbene, torneremo da lei anche stasera». «Ma no, Fanny, perché sacrificarti? Andrei sola. Ti assicuro che andrei volentieri sola. Andremo assieme. Non ne parliamo più. Verrò a teatro. Metteremo la veste rosa?» «Lassa che a teatro vada il babbo. Noi andremo là». «Non siamo le due inseparabili? E poi ti resterà così poco tempo da offrire alla tua madrina». Con la tranquillità di bimba docile e scontenta, Franca cominciò a suonare, mentre Stefano si allontanava dal pianoforte. Il poeta Basilisco sfogliava le pagine della musica, socchiudendo gli occhi di tanto in tanto come un ragazzo ghiotto che succia una caramella. «Ninon, ninon, que fais-tu de la vie?» cantò Fanny sorridendo. Poi Franca si alzò per unirsi a un piccolo gruppo di amici che ragionavano dei balli di moda. Stefano le si avvicinò e disse. «Perché scappa?» «Non scappo. Vado a scambiare due chiacchiere. Con me non vuole chiacchierare? Perché no?» E Franca crollò la testa lievemente con un sorrisetto perché lui si accorgesse di essere goffo e grossolano. Ma Stefano non le badò. Voleva sapere se lei, Franca, avesse fratelli, sorelle, con chi vivesse, poiché era orfana. Le faceva molte domande, ora con tono sommesso ed esitante, ora brusco e fermo. Che cosa doveva ella dimenticare? Che cosa? Avrebbe lui saputo la verità? Pure glielo domandava. Franca, ripresa dall'assurda paura dolorosa e piacevole che egli dovesse afferrarla, stringendosela sul largo petto, rispondeva come se lui avesse diritto di sapere. L'allusione, che agli occhi degli altri emetteva un'ombra di mistero sulla sua persona, doveva averlo inquietato evidentemente. Perciò raccontò di avere fatto l'amore con un tenente partito per la cirenaica. «Uno stupido flirt è durato tre mesi», esclamò con ostentata indifferenza. «Una volta partito è finito tutto. Né io né lui avevamo preso la cosa sul serio. La mia madrina avrà esagerato». Stefano taceva, aprendo e chiudendo un quaderno meccanicamente. Franca pensò. Egli non crede. Tacque anche lei, cercando le parole per spiegarsi meglio senza trovarle, dimenticando le sottili civetterie che formavano tutto il suo bagaglio spirituale. «Io non ho mai amato alcuno, Stefano. Questo avrebbe voluto potergli dire. E anche lei taceva, sfogliando una rosa meccanicamente sulla tastiera che pareva una mostruosa beffarda bocca dentata». Fanny insisteva. «Non si è ancora spiegato. Se non lo dicessi tu stessa, mi sembrerebbe inverosimile. E che pare voglia divorarti con i suoi occhiacci di falco e non ti dice niente. Possibile. Possibile». «Bada, sai, ti comprometti. Murmurano che ti faccia la corte», esclamò con invidia. «Pettegolezzi». «Pettegolezzi, sia pure, ma io non ti conosco più. Ascolta il mio consiglio. O lo fai spiegare o lo pianti. Meglio piantarlo, te l'assicuro. È un personaggio tragico e la vita è una graziosa commedia. Ebbene, Fanny, hai ragione, ma lasciami in pace». Fanny aveva veramente ragione. Stefano non partiva per lei e non le faceva la corte. Piaceva e voleva dirglielo. Ma se ella chinava un po' il capo, somigliando a Valeria, le parlava bruscamente, con un gran desiderio di farle del male. Ogni sera Stefano decideva di partire l'indomani, e l'indomani, svegliandosi, cambiava idea. Maria Luisa scrisse «Non facciamo che aspettarti. Vincenzo corre ad ogni arrivo di treno, la mamma piange e papà si arrabbia. Sei malato? Ci nascondi qualche brutta novità? Papà vorrebbe venire lui a Firenze, ma si capisce che la mamma non vuole». No, no, lui non nascondeva niente. Era libero di pagare il conto dell'albergo, chiudere le valigie e mettersi in treno. «Ah, esser libero!» e si stirò soddisfatto. Sraiato sul divano, con le mani intrecciate sulla nuca, pensò pigramente alla casa. A Maria Luisa, che aspettava i bei doni. A Vincenzo, che tornava deluso senza il padrone. Pensò anche a Franca. Ebbene, era diventato ridicolo. Avrebbe fatto ridere gli amici del circolo alle sue spalle. Interessarsi tanto di una signorina coi capelli corti, che chiamava flerta e l'amore, sorridendo un po' ironica. Interessarsene al punto di volerla sposare. Firenze, città di bellezza e di armonia. Che pesante catena volevi lasciarmi in eterno ricordo. Era libero. Non aveva detto alla signorina Gaudelli una parola che potesse impegnarlo. «Libero», ripeté, approvando con gioia la sua prudenza. Rispose a Maria Luisa. «Puoi dire a papà che domani mi metto la via tra le gambe. Ho perduto tempo per fare delle spese volute da Ninetta». La sera, Franca gli annunciò. «Siamo qui da un mese. I Charlie hanno deciso di tornare a casa». Aggiunse sottovoce, temendo che Stefano intendesse il motivo dell'annuncio. «Partiremo fra qualche giorno». Fanny gli aveva suggerito. «Diglielo. Vedrai che si spiegherà». Stefano rispose. «Anch'io penso di andarmene oramai». «Non verrà il signor mente sana?» domandò Franca alla madrina dopo un pezzo. «Deve essere partito stamane», rispose la del Ruà con aria mortificata di voler domandare scusa. Il sorrisetto delle amiche, in tutte le sfumature della cattiveria e della curiosità, le andò incontro. E il poeta Basilisco la fissò da lontano col suo rotondo occhio di vetro. «Difatti», esclamò Franca con studiata pacatezza, diceva che si preparava ad andarsene. Prese parte alla conversazione e fu vivacissima. E il poeta Basilisco si illuse di avere conquistato il suo volubile cuore. Ma le ginocchia le tremavano forte e le sue guance erano meno rosee. Per le scale si morse le labbra, come se volesse ricacciare indietro un groppo di pianto. «Mea povera Franca», murmurò Fanny. «No! Oh, a me non è sfuggito, che ti ha fatto senso!» «Ma no! Franca, tu soffri! Tu non mi vuoi più bene!» Fanny, l'amica fedele delle ore buone e delle ore cattive, la prese per il braccio dolcemente. Andarono un pezzetto in silenzio, e nella calma dell'ora tarda risonava il passo pesante del commendatore Charlie e quello leggero della moglie che lo accompagnavano. Fanny, che non sapeva restare zitta, esclamò. «Me avessi ascoltata! Quante volte ho cercato di persuaderti! Fallo spiegare, impegnalo! Ma che ti diceva dunque?» «Niente! Niente! Tutta la serata niente!» Mi domandava molte cose. «E tu?» «Non so, ho accennato a Ricciardi. Con le idee che ha, si sarà turbato.» «Di che? Di qualche flirt? È un selvaggio, quell'uomo! Ma tu sei stata un'ingenua! Lasciartelo sfuggire! Tu, così, così piena di spirito! Non ti conosco più!» Franca taceva, stancata dalle inutili parole della sua buona amica, inutili e forse un pochino volgari. «Come lontano l'albergo e come lento il passo della signora Charlie.» «Franca! Mia povera Franca!» ripigliava Fanny. «Diventi debole! Diventi, lasciamelo dire! Diventi stupida! Tu, il mio babacco Rum! Dimentichi il nostro decalogo compilato in giardino. Ricordi? Primo. Ridersi degli uomini sempre, specie se fanno delle dichiarazioni d'amore. Parentesi. Il tuo selvaggio ti faceva delle dichiarazioni mute che tu non capivi. È lo stesso.» «Secondo. Ottenere che il nostro adoratore si innamori per davvero, ma badare che noi non ci innamoriamo.» «Terzo. Finiscila!» interruppe Franca con voce ferma. «Non era un uomo da fare complimenti banali. Gli sarò piaciuta. Non ha creduto di dovermelo dire. È onesto. Se non dovevamo rivederci più, perché...» Non continuò. La vocetta acuta di Fanny, il chiacchierio sommesso dei Charlie che giungeva a tratti, i rumori notturni della città, tutto si confondeva in un confuso e pesante sussurrio. «Oimè!» faceva Fanny. «Non sapevo che fosse una cosa tanto seria.» «Ragazze!» chiamava la signora Charlie, fermandosi perché le due amiche tornassero qualche passo indietro. «Sentite, Guglielmo ha sbrigato i suoi affari e dovremmo ripartire domani. Vi dispiace? Vi resta qualche spesetta da fare?» «Peccato!» esclamò Fanny. «Stavamo così bene qui. Non è vero, Franca?» «Quanto a me?» balbettò Franca e sperò che i Charlie si decidessero a tornare subito. Firenze non era altro che il salotto della Del Rua, diventato freddo, ostile, deserto. Stancarsi, piegando biancheria, stracciando lettere e cartoline, mettendo in disordine i due cassetti dell'armadio per poi riempire le valigie spalancate, le faceva bene. Era dolente di aver mostrato la sua debolezza a Fanny, che certo si sarebbe divertita a compiangerla chiacchierando con Silvia o con Mary o con Liliana. Canticchiava. «Come sei allegra?» borbottò Fanny. «A me secca lasciare Firenze. Chissà quando potrò tornarvi!» Franca continuò a canticchiare. «Non credevo che fossi tanto volubile. Ha ragione tua zia. Perché? Perché vedo che hai perfettamente dimenticato il tuo selvaggio!» Franca trasalì, esclamando allegramente. «Per dimenticare bisogna prima avere qualche cosa da ricordare!» «O perché non creavi ieri sera questo profondo aforisma?» «Ieri sera... ieri sera dovevo stare un po' male!» «Ah, ed ora sei guarita?» «Brava!» fece Fanny. «Capisco. Senti, dobbiamo salutare la Del Rua, che è stata molto gentile. Così tardi, ho da fare le valigie, da correre dall'orologiaio. E allora?» «Allora le scriverò. È lo stesso». Zia Fabiana entrava, ancora spettinata e in pantofole. «Franca, troppo presto ti sei levata. Non hai dormito bene?» «No. Non dormi più un bel sonno da quando sei tornata. Io ti sento. La faccio finita e mando a chiamare il dottor Balsamini. Che brutta idea, zia Fabiana. O perché? È davvero bufo il dottor Balsamini, con i suoi occhiali a stanghetta. Come sei impertinente, ma io ho il dovere di mandarlo a chiamare. E poi vorrei farti un discorso serio. Sono sempre tanto seri i tuoi discorsi, zia. Vorrei essere ascoltata. Ti ascolto, zia. Col cuore, non con gli orecchi soltanto. Ho parlato molto di te col parroco di San Francesco, don Agostini. «Ti assicuro che è un uomo dotto, una mente vasta, se tu lo sentissi parlare. Dicevamo che tu dovresti cambiare le tue abitudini. Per far piacere al tuo parroco. Dimmi, con chi pratichi? E quelle tue amiche? Quella Silvia, che è sulla bocca di tutti!» Franca sbadigliò. «Sei stanca, non è il momento. Ne riparleremo. Tu sei buona, in fondo, e mi darai la consolazione di avere una nipotina che sia l'esempio di tutte. Ma perché, Dio Bonino, perché ti sei tagliato i capelli?» esclamò con dolore zia Fabiana mentre Franca si levava la cuffia da notte. «Non mi posso abituare», borbottò allontanandosi in fretta. «Non mi posso abituare!» Franca chiuse l'uscio. La zia l'aveva finalmente lasciata sola. Ma non era sempre sola. Sola assieme alla zia, al babbo, alle amiche più carine, sola anche insieme a Fanny. Povero dottor Balsamini, certo l'oracolo di zia Fabiana sarebbe venuto, ma egli non poteva scacciare coi suoi rimedi la noia profonda e nera portata dal suo viaggio di piacere. Aspettava l'ora di colazione le giucchiando un poco, o preparandosi a dipingere per rimettere subito a posto i pennelli, lucidandosi le unghie, guardandosi nello specchio per riesaminare due piccolissime grinze agli angoli della bocca. E l'ozio la snervava. I pomeriggi e le serate erano pieni e a volte quasi divertenti. Il tennis a casa mammola, le visite in compagnia di zia Fabiana, che impegnata in una vera contabilità segnava in un quaderno le visite fatte e quelle ricevute. Una conferenza o un concerto, il cinematografo o il teatro, quando l'unico teatro cittadino era aperto, e immancabilmente la passeggiata per il corso e il solito incontro con le solite amiche. Certe volte, girellando per le stanze della vecchia casa, eccitata dal bisogno di fare qualche cosa utile, si figurava di poter cambiare il posto dei massicci mobili tarlati, di mettere un fascio di fiori freschi nei vasi ricolmi di pesanti sbiaditi mazzi di carta velina fatti dalle suore stimmatine ammiratrici di zia Fabiana. Occuparsi della casa le sarebbe piaciuto. Certo, Fanny l'avrebbe canzonata se lei avesse confessato certi desideri. E la zia? Guai a toccare ciò che le apparteneva. Sarebbe stato inutile voler tentare di pregarla. Tuttavia si divertiva un pezzetto a farla arrabbiare. Zia, proponeva seria seria, permetti che dia una rinfrescata al salotto. Mi faresti un regalo. Rosina è così lenta che le manca il tempo di spolverare tutto. E io sono pronta. Ma lascia che metta nel fuoco quel sottolume di lana verde. Nel fuoco? Sei matta? È brutto. Anche le due cornicine di paglia sono bruttissime. E l'album dei ritratti. E i piattini di frutta di scagliola, zia. Faremo una bella fiammata. E la console, zia? Anche la console? Dovresti mandarla in soffitta, così caricata com'è. Benedetta figliola, se io entrassi nella tua camera per criticare... Non è mia, perché non posso tenerla col mio gusto. Sei tu la padrona. Dici davvero? Allora posso buttar via quello che non mi garba. Per l'amor del cielo! Fai qualcosa, occupati! Proprio così, zia. Vorrei fare qualche cosa. Ebbene, dipingi. Non ti va? Suona. Neanche? Mi hai fatto spendere bei quattrini con la maestra di piano. Mettiti a cucire, come faccio io. Leggi i libri che mi ha prestati la Marchesa, pieni di pensieri bellissimi. E allora vattene in camera e medita. Medita sulle tue mattezze. Coi capelli tagliati sei diventata un vero ragazzaccio. Tutta tuo padre. Se portassi i calzoni faresti peggio di lui. Sì, cara, vattene che è meglio. Lascia che io dica tranquillamente le mie orazioni. Franca correva via, ridendo, con gli occhi che le bruciavano per le lacrime ricacciate indietro. Si affacciava. Davanti i negozi si allungava l'ombra delle tende. Il corso, mezzo deserto e caldo, era brutto e misero. A momenti Rosina l'avrebbe chiamata per la colazione. Più tardi sarebbe venuta Fanny. Sarebbero andate su e giù per il corso, abbellito dalla luce delle lampade elettriche e dalla folla come uno scenario. Insieme avrebbero incontrato le solite amiche. Il piccolo stato maggiore del tennis, come lo chiamava l'ingegnere Paolini. Silvia, Nidia, Mary, Liliana, Celeste. Le rivedeva tutte, come se passeggiassero lì di giorno sotto la finestra nelle lunghe ombre delle tende. Silvia, Nidia, Liliana, come Franca e Fanny non erano belle. E Mary e Celeste erano quasi bruttine. Ma a guardarle tutte insieme, fresche, gaie, sorridenti, con abiti succinti, occhiari come ali di farfalle, oscuri che mettessero in mostra la delle braccia nude e del collo, parevano tutte graziose. Senza dirselo, cercavano di aggrupparsi con armonia, quasi fossero sempre pronte a farsi un ritratto. Silvia, che era alta e bruna, andava con Mary, Liliana e Franca. Fanny, la più bassa, andava avanti con Nidia e Celeste. A guardarle in gruppo pareva si somigliassero come sorelle, ma l'una era differente dall'altra. Silvia, dai capelli e dai lunghi sopraccigli nerissimi, dalla disinvoltura ostentata, aveva continuamente l'aria di farsi beffe di tutto e di tutti con lo sporgere delle labbra sottili. Sempre pronta a punzecchiare con la risatina amara e le risposte ironiche, pareva che avesse dell'astio contro la città intera. Le amiche, aspettandosi di essere sbeffeggiate, evitavano di stare a lungo in sua compagnia o di farle qualche piccola confidenza, e gli ammiratori del circolo e del tennis, per non sembrare stupidamente romantici, la trattavano alla familiare più che se fosse stata un giovanotto. Maria, che si faceva chiamare Mary, figliuola di un sarto e di una calzettaia, aveva ardentemente desiderato di mettersi in mezzo al piccolo stato maggiore, e una volta raggiunto il suo desiderio, aveva abbandonato anche lei le scuole normali. Volendo far dimenticare alle amiche signorine l'umiltà della sua condizione, faceva sfoggio di abiti cuciti in casa e di cappellini bizzarri. La soprannominavano Madame Gella Noli Metangere, perché arricciava il naso appena le pareva di sentire o di vedere cose troppo comuni che lei chiamava volgari e indecenti con tono di grande disprezzo. I suoi genitori erano poveri e un fratello che studiava legge a Bologna costava molto. Ogni abito nuovo, ogni appariscente cappellino, sapeva giornate di grigie e penose privazioni. La mattina mandava giù una fetta di polenta o un pezzo di pane e unto d'olio e poi, se ne capitava, raccontava di avere inzuppato nel latte e cioccolata della colazione dei biscotti deliziosi manipolati dalle monache. Le amiche la giudicavano noiosissima, ma ognuna di loro le faceva buon viso e ammirava i suoi abiti, cercando di piacerle, perché il fratello studente prometteva di diventare un buon partito. Liliana, che portava ancora le trecce e andava a scuola, stava a disagio nella compagnia. Suo padre, era segretario di prefettura e la madre un'ottima signora piena di buoni principi che inculcava nelle figlie. Aveva sei sorelle molto più grandi di lei, sei ragazzone senza dote che sperando di accasarsi si cucivano il corredo e ricamavano a telaio massicci e ingombranti oggetti, porta guanti di raso, copri piumini di seta, porta spazzole di velluto, porta orologi e borsette. Da regalare, l'un l'altra per le feste. Finché durava la giatezza procurata dal lavoro del babbo e la speranza di trovare marito, era convenuto che i loro diplomi e i loro attestati, buoni in caso di necessità, guadagnati sui banchi delle scuole normali e dell'istituto tecnico, dovessero restare nei cassetti. Liliana non lavorava volentieri accanto alle sorelle, colorite, paffute e serene come tante novizie, davanti la finestra che si spalancava in faccia ai monti chiarissimi. E studiacchiava svogliatamente, perché le pareva inutile affannarsi tanti anni per buscarsi un pezzo di carta da custodire come cimelio. Il babbo diceva, un giorno o l'altro ognuna di voi saprà come guadagnarsi la vita onestamente, ma finché io resto in piedi non permetterò mai che le mie creature escano di casa per procurarsi uno stipendio. Forse vi manca qualche cosa? E la moglie approvava gravemente. Non mancava nulla, né pane, né scarpe, né vestiti. Ma Liliana pensava in confuso che il loro avvenire di ragazze senza dote, non disciplinate al lavoro, era buio e la loro vita incompleta. Anche lei si sarebbe maturata in casa come le sorelle? Ma lei, meno spensierata e serena, avrebbe sentito allora di somigliare al povero che si leva dalla sua misera tavola senza essersi sfamato. Avrebbe sentito quella fame. La sentiva. Poi conobbe Mary, che le fece conoscere le sue amiche. Quanto diverse le amiche di Mary dalle sue pacifiche sorelle. I suoi oblunghi occhi, miti e pensosi, parvero domandare la protezione di Celeste, di Nidia e più di Fanny, di Franca e di Silvia, perché le insegnassero a diventare carina e disinvolta. Superando la sua timidezza e lo sdegno della madre, cercò di vestire come loro. Ieri le calze di seta o di filo trasparenti, oggi lo scollo più profondo. Domani un capo di biancheria di crespo leggero che non impacci la vita. È la moda, mamma. A poco a poco si trasformò. Lesse come le nuove amiche e libri che si dovevano portare in casa di nascosto. Imparò il tango e il gioco della racchetta e seppe sedere mettendo un ginocchio sull'altro per non nascondere ipocritamente le gambe esili e lunghe. È la moda! Ma il suo riso, studiato nello specchio volendo somigliare a Silvia e a Fanny, restava malinconico, quasi spaventato. Perché a lei non piacevano affatto né i libri letti di nascosto, che lasciano le palpebre gonfie la testa vuota né il gestire un po' mascolino di Silvia. Tuttavia cercava di copiare ciò che le pareva più ardito per snebbiare il suo avvenire di signorina povera, piacendo a qualcuno. Oh, se qualcuno l'avesse scelta, Liliana non avrebbe continuato a logorare la sua timida indole. Si sarebbe tutta dedicata a lui, alla sua casa, che in fondo in fondo, ella amava le cose semplici e buone come la mamma. Ma chi sarebbe stato lui? Nella cameretta con tre lettini uguali, che faceva pensare un dormitorio di collegio non veduto mai, esaminava a uno a uno gli ammiratori del piccolo stato maggiore. Nessuno aveva un lampo di serietà, di simpatia sincera nello sguardo, talvolta intorbidito dal desiderio. E allora? I complimenti dei corteggiatori, i discorsi arditi, le letture disoneste, tutto si fondeva in una fiammata sola che turbava l'anima e che le amiche tenevano destra per gioco, senza bruciarsi. E allora? Allora Liliana, nella cameretta che faceva pensare un collegio non veduto mai, sfogava un poco, piangendo. Franca e Fanny erano i ducci del gruppo. Unite da una particolare amicizia, si erano costrette a staccarsi per molto tempo, si appartavano per farsi delle graziose scene di gelosia. Tu non mi vuoi più bene. Debbo rimproverarti io, piuttosto, tutta la serata con Nidia. E tu con Mary. Io non posso soffrire, Mary. E io Nidia. Davvero? Davvero. Bel gusto ragionare con una stupida che crede di essere bellissima e non si interessa di nulla. La sua ignoranza è fenomenale. Figurati che si parlava del tè rum e ha detto, a me non piace il rum nel tè. Carina questa. Finivano col dir male delle compagne e col farsi grandi giuramenti. Giura che non mi tradirai mai. E l'una e l'altra, socchiudendo gli occhi, si illudeva di ripetere così a colui che doveva amarle per davvero. La loro amicizia durava da quando Franca era venuta in casa di zia Fabiana. Il ricordo del tempo che viveva con la madre e poi quello del suo arrivo in casa di zia Fabiana, ricordi rimasti impressi nel suo animo, tornavano dinanzi alla memoria di Franca come nitidi ma slegati frammenti di sogno. Si rivedeva nella rustica, soleggiata casa di campagna, dove era cresciuta, intenta a fare i compiti di scuola sulla tavola della cucina. La finestra era aperta. Le pareva di sentire l'odore di sole e di pane fresco che sempre si univa alla chiara e luminosa visione. La mamma era così triste che talvolta piangeva senza voler dire perché piangesse e vestiva di scuro. Ma lei non si affliggeva della sua tristezza né si stupiva che il padre vivesse solo lontano. Il suo piccolo cuore era ricolmo di umili e giocondi desideri. Voleva fare la maestra e vivere accanto alla mamma. Nient'altro. La vita era tutta lì, nella casa soleggiata, nelle aule delle scuole normali in mezzo alle compagne. Tutto era facile e allegro, ed era quasi abituata a veder la mamma triste e seria, lontana dal marito. Forse lontana anche da lei. Il babbo era allora lo stesso, biondo, galante, rumoroso. Veniva spesso e restava qualche settimana. La prendeva sulle ginocchia, chiamandola la mia bambolona. Era allegro più di ora. Ma dopo due o tre giorni si metteva di malumore. Immancabilmente, la vigilia della partenza, marito e moglie si chiudevano in un salotto per discutere. Si udivano le loro voci concitate. Subito dopo, egli si preparava a partire con tanta impazienza che dimenticava di baciare la sua bambolona. Franca dava quasi torto alla mamma che salutava il marito con freddezza ostile. Ora, contemplando la sua figura che si sbiadiva nel ricordo e riudendo certe parole afferrate per caso, le pareva di comprendere la sua freddezza di donna tradita. Ancora si rivedeva accanto a zia Fabiana che l'abbracciava. Il babbo, più bello e più biondo, nella severità del vestito nero, diceva «Mi farò trasferire qui. Sarò tutto della mia bambolona». E zia Fabiana crollava il capo. Lei non si accorgeva della commozione degli altri. Non aveva mai viaggiato e la piccola città di provincia le pareva molto interessante. Non conosceva neanche la sorella del babbo. Tutto la sorprendeva, svagandola. Perciò sentiva, un poco stupita e mortificata, che il suo dolore si calmava. Portava una veste lunga lunga, urlata di crespo, e spesso buttava indietro la testa, tanto erano pesanti le sue grosse trecce. Dopo aver conosciuto Fanny Charlie, venuta a fare subito visita con la madre, era corsa a guardarsi nello specchio alto dell'armadio, tutta umiliata. Era goffa, sgraziata. Fanny si occupò di lei con gran disinteresse. Le fece raccogliere i capelli a crocchia, accorciò le vesti con le sue proprie mani, non abituate a tenere forbice e ago. Le insegnò perfino a curarsi le unghie, a portare i tacchi alti, a profumarsi. Trionfante soleva ripetere, «è il mio capolavoro». Il babbo continuava a scrivere alla sorella. «Ho fatto domanda per essere trasferito costà. Provvederò io all'avvenire di Franca. Intanto è inutile che vada a scuola, falle studiare in casa ciò che le piace. L'unica figlia del cavaliere Gaudelli non ha bisogno di guadagnarsi un pane». Queste parole, ripetute nei salotti, dove ogni piccolo avvenimento era risaputo e commentato, fecero buona impressione alle amiche di Fabiana. Ci fu un tempo che Fanny, superata dalla scolara, evitò di mostrarsi al suo fianco, temendo di dover sfigurare. Ma le voleva bene sinceramente e tornò ad esserle amica. Le disse, «Che farci, cara, la fortuna è dalla tua». Diventò la confidente di Franca, che cominciava a fare all'amore. Si divertì ad aiutarla nel compilare le risposte ai bigliettini di gatto salvati, a consigliarla ad accettare un appuntamento nel giardino dei Mammola, a rifiutarne un altro al caffè degli accademici. Franca credeva di amare. E quando Gaddo diventò un amico qualunque, non si addolorò affatto. Poi credette di amare Giulio Nelli, che studiava leggi a Roma. La sua confidente le raccomandava, «Non te lo fare scappare, è un magnifico partito». E lei gli aveva scritto ogni sera per un anno, sicura che sarebbe venuto a domandare la sua mano. Poi. Ebbene, si era stancata del gioco. Un gioco che durava da anni e anni e non finiva mai. Non le restava la dolcezza di un rimpianto. Non rimpiangeva Gaddo né il tenente Ricciardi, che Fanny chiamava «la grande elusione». No, ella non aveva mai amato nessuno, neanche Giulio Nelli. E nascosto il volto tra le palme, mormorò un nome che le riempiva l'anima di dolore e di luce. «E di Madame Angot sono la figlia, sono la figlia». «Ciao», salutava il babbo entrando. «Non esci?» «Sul tardi», rispose Franca. «Non ci vedremo a cena». «No, bambolona mia, ho una riunione alle sette». «È festa». «Che importa, il tuo babbone lavora sempre. Viene la tua antica ranocchina?» «Viene». «Dove andrete?» «Non so». «Addio». Il cavalier Gaudelli, vestito di bigio, profumato di eliotropio, col bastoncino in tasca, si allontanò canticchiando. La sua vivacità di vecchio Gaudente, che vuole essere giovane, era a volte turbata dal pensiero di Franca. «Franchina, bambolona bella», borbottava talora fra sé e sé, passeggiando su e giù per la camera, mentre si vestiva. «Franca, tu sei un tesoro di figliola, saggia e graziosa. Ma se tu prendessi il volo verso una casetta tua, il babbo, poverino, non sarebbe costretto a passare i suoi ultimi anni qui, in questa pettegola città senza risorse, dove cento occhi stanno a spiare se un gentiluomo si ferma a salutare una donna gentile». Con leggerezza si era assunto l'obbligo di provvedere all'avvenire della figlia, e col passare del tempo cominciava a domandarsi che mai potesse fare per lei. Qualche volta la sorella sfogava. «Il signor tale fa la ruota intorno a Franca, uno spiantato». Lui replicava. «Che farce, cara Fabiana, il tempo del principe azzurro è tramontato. Ma se tua figlia si compromettesse come la Santi? Oh, non temere, la mia bambolona, piena di spirito e di buonsenso saprà scegliere il mio futuro genero. Intanto passano gli anni, Camillo. Tu hai fatto male a non lasciarla studiare. Ora avrebbe da un pezzo una posizione». «Una posizione», esclamava lui fingendo di arrabbiarsi. «Significa farsi una posizione? Diventare maestrina, o dattilografa, o impiegata delle poste? Ci son io per lei, e basta». «È un vero scandalo», concluse Fanny. «Le signore ci fanno una spietata concorrenza. Il tuo gaddo è diventato il cicisbeo della signora Bianchi». «Anche Pieri», replicò subito Franca incipriandosi, «si dedica alla Marchesa Giulietta». «Pieri», esclamò Fanny turbata, «non mi interessa». «Giulietta e Romeo, che ridere! Una Giulietta con i capelli tinti e la pancera». Andò presso la finestra canticchiando. «Ninon, ninon, che fes tu della vie?» «Ninon, ninon, che fes tu della vie?» «Rose ce soir, demain flettri. Comment vis-tu, toi, qui n'ha pas d'amour?» «Sai», s'interruppe, «queste parole che mi piacevano tanto cominciano a sembrarmi malinconiche». «Diventi romantica?» esclamò Franca. «Bada che non ti senta la Silvia!» «Oh, Silvia», fece Fanny. Ripigliò con una insolita gravità nel piccolo e tondo visetto. «Non sono affatto romantica. Mi accorgo piuttosto che una signorina come noi, per quanto faccia la spregiudicata, non ha il mezzo di vincere le signore. Mi capisci?» «Ti capisco». «Andiamo?» «Andiamo. La Santi, per esempio. Silvia Santi ha agito senza prudenza. Ha messo tutto su una carta, e io, tu, lei, le altre ne abbiamo una sola, per sposare il Massimini. Si è rovinata. È cattiva, per questo. Vedi che la colpa non è sempre delle signore, come dici tu. E allora?» «Oh!» esclamò Fanny ritrovando ad un tratto la sua gaiezza. «Come ti sei fatta, bella! Tu trionferai stasera!» «Te, beata!» «Perché?» «Perché ti contenti ancora di questi trionfi!» «Io no!» Sai che diceva Silvia l'altra sera? Che se l'ingegnere Paolini le avesse fatto la corte che fa a te senza stancarsi, non parlarmi di Paolini. È come se fosse scapolo. Sua moglie, che passa da un sanatore all'altro, non avrà vita lunga. «Fanny! Sono parole di Silvia, bada! Non ti ho detto che è cattiva! E non è mio dovere di riferirti da amica quanto ti riguarda!» «Salutiamo la zia!» esclamò Franca. «Ti sei dispiaciuta? Figurati!» Attraversarono l'andito già mezzo buio. Fabiana annaffiava i fiori sul terrazzo e la piccola figura bionda e nera contro la luce affocata dal tramonto pareva tracciata nell'aria con un lapis d'oro. «Ti aspettiamo?» le gridò Franca, temendo che la zia volesse seguirle. «Te l'ho detto, cara! Esco per la benedizione e torno subito a casa!» Le due ragazze corsero via per le scale, poi rallentarono il passo. «Come ti sei fatta, bella!» ripetè Fanny leggermente ingelosita. «Dimenticavo! È tornata Luisa da Roma! L'hai veduta?» «Sì, l'ho incontrata! Ha un visino sfiorito! Si è laureata!» «Una bella laurea», dicono. «Si prepara per un concorso! Pensare che pareva una bambinuccia da non darle due soldi!» «E nessuno di noi si occupava di lei! Rammenti!» «Delle signorine!» E Luisa, con le sue dita sporche d'inchiostro e tacchi bassi. «Ora lei va avanti e noi restiamo fermi allo stesso posto! Che abbiamo fatto in tanti anni?» «Davvero, che abbiamo fatto? Ma i libri l'hanno imbruttita! E perciò?» «Ah, no!» esclamò Fanny. «Io non vorrei imbruttire mai!» «Sai che ho pensato? Se dovessimo cambiare la nostra vita, io mi farei monaca!» «Tu, Fanny, ti dico sul serio!» replicò Fanny. «Le monache non si interessano di niente e perciò sono felici! Non piace anche a te!» «Farmi monaca!» esclamò Franca con un brivido leggero. «No, no! Morirei di malinconia!» «E allora niente!» fece Fanny allegramente. Risero avviandosi. Mentre le signorine e le signore passeggiavano su e giù, giù e su per il corso, abbellito dalla luce delle lampade come un grande scenario nell'ora della rappresentazione, il cavaliere Gaudelli usciva, sconvolto, dallo studio del signor prefetto e, corso a casa, si buttava sul letto lamentandosi. «Che hai?» gli domandava Fabiana, che tornata allora dalla funzione non si era ancora levato il cappello. «Ho tutti i mali che il signore ha creati! Ti duole qualche punto del corpo? Dove ti duole? Qui e qui! Ai!» E il povero Gaudelli si toccava il petto, le spalle e accennava i fianchi che gli dolevano veramente. Fabiana riscaldò in fretta delle pezzole di lana, preparò una tazza di camomilla e mandò Rosina a comprare del laudano. Il fratello si lasciò scottare dalle pezzole, mandò giù la camomilla, prese il laudano, gemendo sempre più forte. Gli energici rimedi di Fabiana non potevano liberarlo dalla collera e dallo sgomento che lo divoravano. Poi finse di assopirsi per essere lasciato in pace e, all'oscuro, con lenzuolo tirato fino alle orecchie dalla buona Fabiana che l'aveva fasciato come una mummia, considerò tra sé e sé la punizione ricevuta. Un trasferimento telegrafico in Sicilia. L'insipienza del ministero, la volubilità delle donne, la propria ingenuità e l'invidia del prefetto erano le vere cause del trasferimento così ben simulato da indiscutibili ragioni d'ufficio, che dopo tutto gli facevano onore agli occhi dei colleghi. Il pensiero che la sua rispettabilità non fosse stata addentata lo chetò un poco. Sorrise all'oscuro. Era forse colpa sua se piaceva più del prefetto, così poco elegante, così poco elegante. L'invidia, l'invidia, niente altro che l'invidia lo aveva rovinato. Considerando la sua innocenza, rassegnandosi stoicamente al sacrificio, si addormentò. Levandosi completamente rasserenato, si stupì delle premure di Franca e di Fabiana. «Sto meglio», rispose rammentandosi di essersi messo a letto malato. «Sto proprio bene». Solo più tardi cominciò a raccontare la cosa. Era l'ora di colazione. Fabiana tagliava il pane a fette e Franca lo imburrava. Il cavaliere raccontava lentamente, come se masticasse le parole prima di mandarle fuori. In verità gli riusciva difficile comunicare la notizia a bruciapelo. Fabiana non si permetteva mai di replicare al fratello che, vissuto lontano, gli aveva sempre dato una specie di soggezione. Senza accorgersi che lo interrompeva, esclamò. «In Sicilia! Domani tutti diranno che sei stato punito!» Subito si pentì dell'esclamazione. «Vado ad occupare una sottoprefettura», spiegò dignitosamente il cavaliere. «Non importa», continuò Fabiana. «In Sicilia si va per punizione». «O per promozione», esclamò il cavaliere guardando Franca, che sorrideva tenendo gli occhi sulle fette di pane che stava imburrando. «E io non posso fossilizzarmi, restando consigliere per tutta la vita». Sul volto di Fabiana, più chiaro della pergamena, salivano due pennellate rosse. Era così esasperata dalla notizia che le parole le scappavano di bocca senza volerlo. «Alla tua età!» murmorò. E siccome il fratello corrugava la fronte offeso, continuò. «Volevo dire che ti trattano senza riguardo!» E poi, aggiunse con la voce che le tremava per quello sforzo di trattenersi, «è meglio non essere ambiziosi». «Tu non sei mai stato ambizioso». Allora, il cavaliere Gaudelli, per non fare continuare la sorella, un po' troppo eccitata, e per giustificarsi davanti alla figlia, colorì una fantastica storia di persecuzioni politiche, alla quale, via via che la inventava, finiva col credere lui stesso. «E dovresti andare?» replicò Fabiana, calmata dal lungo eloquio del fratello. Il cavaliere nominò sottovoce l'umile paese che gli destinavano. Franca socchiuse gli occhi, come se qualcuno gli avesse dato un pugno nel petto. «Esiste questo paese nella carta geografica?» borbottava Fabiana. Franca non udiva più nulla. Le orecchie le ronzavano, e un rivolo freddo le scendeva dalla nuca alla palma dei piedi. Dopotutto, l'idea di intraprendere un bel viaggio per terra e per mare, di non avere a contrastare con superiori nell'ufficio, e specialmente di presentarsi così solo che fosse creduto scapolo, o almeno senza figli, rallegrava il cavaliere Gaudelli. Ma Franca, benedetta ragazza, scompigliò i suoi piani. «Babbo», gli disse entrando in camera, come se dovesse comunicargli una notizia. «Pensi di lasciarmi qui?» «Ma certo», fece il cavaliere contemplandosi nello specchio, e non era colpa sua se uno specchio che gli stava a lato lo attirava col suo bianco e cheto splendore in un momento pieno di serietà. «Io vegeterò laggiù il meno possibile. Tra pochissimi mesi correrò a Roma, e se in primavera non sarò qui di nuovo, oppure…» Borbottò ricordandosi, «oppure mandato altrove. Insomma, mi preparo alla lotta». «Tanto meglio», replicò Franca, cercando di nascondere l'emozione che le arrocchiva la voce. «Vorrò con te pochi mesi, poi a Roma. Vedrò un pochino la Sicilia». «O meglio, un buco della Sicilia. Ti annoierai». «Mi annoierò di più qui, babbo. Verrà anche la zia», fece Franca, sicura che zia Fabiana non avrebbe lasciato la smorta città di provincia alla quale era attaccata come l'ostrica al suo guscio. «Lascia stare Fabiana», rispose il cavaliere corrugando la fronte senza più guardarsi nello specchio. «Non ho davvero voglia di sentire l'agnanze». «Ti sei imbronciato. Proprio non la vuoi, la tua Franca?» «Bambolona mia», rispose rassegnatamente il cavaliere Gaudelli. «A te non so rispondere di no». «A te», aggiunse sottovoce con sincera tristezza, ricordando che troppe volte aveva risposto di no alla sua povera moglie. «Dico, preparati». «Grazie, babbo», rispose Franca con entusiasmo. «Corri a preparare le tue robe», esclamò il cavaliere Gaudelli, già liberato dal suo attimo di tristezza e di rimorso. «Abbiamo due settimane di tempo e poi marcia! Corri». E anche lui cominciò subito a lavorare, mettendo sotto sopra i cassetti per scegliere quanto gli serviva. Comprò guanti, scarpe e cravate per sé, profumi, nastri e romanzi per Franca. Alla fine si fece portare a casa due bauli nuovi da riempire di abiti, due scatole di cuoio per i cappelli e quattro valigie. Spiegava alla sorella che crollava il capo. «La mia Franca non si deve presentare laggiù come la figlia di un povero impiegato. Io sono qui pronto a sacrificarmi per lei sino all'ultimo». Era convinto di sacrificarsi e di adempiere ai suoi doveri di padre. «Che altro dovrei fare per lei?» si domandava fra sé e sé tranquillamente. «Sei la montagna che va incontro a Maometto», esclamò Fanny quasi sbigottita. «Nel suo paese!» Franca mormorò. «Come non credere al destino! Tu cammini diretta a un posto e i passi ti portano dove non pensavi di andare!» «Nel suo paese!» ripetè Fanny. «Non ti fare scappare la fortuna! Ah, Franca, Franca, fossi io nei tuoi panni!» «No, Fanny, se non è destino! Ah, chi ha tutto dalla sua, il destino se lo fa come vuole! Afferra la fortuna che ti passa davanti e che non ripasserà mai più! Mai più, capisci? Mai più!» «Ninon, ninon, che fai tu della vie! Ah, tu sai che farne, tu!» «Fanny, tu piangi!» «Ma no!» esclamò Fanny. I suoi occhi, sporgenti e chiari, luccicavano più del solido. «Figurati!» ripigliò. «Stasera avrò una richiesta di matrimonio!» «Per davvero?» «Per davvero! Ma sarà una cosa seria! Anche troppo seria! I miei genitori sono preparati a ricevere il cavaliere Maurino!» «Ah, Maurino? Sì, il collega di tuo padre! Più giovane di tuo padre, però! Come ti pare? Dimmi la verità!» «Ma una brava persona! Ho sentito dirne bene! Ecco, una brava persona! Hai baffi lunghi lunghi!» rise Fanny per non piangere. «Verrà con la madre a domandare la mia mano! È finito il tempo dei flirt, di Pieri e di Alessi! Bisogna pensare all'avvenire oramai! E l'avvenire è lui, con i suoi baffi lunghi lunghi e le spalle un po' curve!» Mi dirà «Signorina Fanny, vi amo tanto!» «Ma io non l'amo, poverino! Pure dovrò contentarmi di questa buona occasione, perché, vedi, in città sono convinti che io ne abbia fatti di tutti i colori! Anche tu, Franca, non ti ribellare! Pare così, perché abbiamo corso dietro le fantasie, cercando l'amore che non è mai venuto! Tu ed io siamo due fiammelle accese sulla finestra aperta, che vanno come il vento le spinge, senza far luce a nessuno!» E Fanny, con la testa sul petto dell'amica fedele, pianse e si inghiozzò liberamente. «Ma tu, mormorò con tenerezza, senza invidia, tu hai trovato l'amore e sarai veramente felice!» Zia Fabiana, che stava per entrare nella stanza in disordine, credette che le fanciulle piangessero così desolatamente per la pena di doversi lasciare. Si allontanò in punta di piedi, asciugandosi gli occhi, commossa e pentita di non avere fatto mai niente per acquistare la confidenza della sua nipotina. Ecco che se ne andava e non avrebbe avuto da ricordare altro che i suoi continui rimproveri. Non poté fare a meno di tornare indietro. «Franca, tesoro!» disse. «Vorrai sempre bene a zia Fabiana!» Il tono della sua voce era così lamentoso che le due amiche, divagate, si asciugarono gli occhi. «Oh, certo!» rispose Franca per cortesia. E anche lei pensò con un po' di tristezza, che se ne andava senza rimpiangere nulla. Franca esclamò affacciandosi. «Il paese è bruttino. Le finestre del salotto si aprivano su una piazzetta che aveva di qua una chiesa e di là il circolo con un gran ballatoio. E fra il circolo e la chiesa uno squarcio arioso e lontano chiuso dal profilo d'un monte. Franca fece spalancare le finestre della sala da pranzo che davano sul corso e i balconcini di varie stanze che si affacciavano in un vicolo. Il cielo blu non si poteva guardare, tanto il sole lo faceva splendere, e il vicolo, pieno di un forte odore di cacio e di frutta, era pulito e asciutto. Da ogni finestra si vedeva lo stesso monte, color dell'acciaio, che pareva portare a malincuore sulla cima un castello rovinato. «Il paese è brutto», ripetè Franca. Parve che il paese avesse sentito, e all'improvviso si imbruttì per davvero. Il cielo si allividì e la pioggia si affannò di giorno e di notte a infangare le strade, i muri e le porte. Franca indugiava a guardare distrattamente, di là dai vetri chiusi, gli alberi ingialliti del corso mezzo deserto, i pochi uomini che passavano in fretta sotto i lucidi e grondanti ombrelli aperti. Andava a guardare il vicolo. Qualche donna passava di corsa, da un uscio all'altro, riparandosi con la gonnella rimboccata sul capo o con un sacco. Perché era venuta? L'avrebbe riveduto? Dove abitava? Forse lassù, fra le case aggruppate ai piedi del castello, che chiudeva l'orizzonte come un tappo di sughero frantumato? O forse in mezzo alla campagna bellissima, guardata dall'automobile col desiderio di trovarvi rifugio? O piuttosto non era vicina la sua casa, in uno dei palazzi del corso che parevano e non erano disabitate? Prendeva un libro e si guardava attorno prima di sedere. Le poltrone del salotto, come il parato a fiorami, come i mobili e gli oggetti di tutta la casa, le facevano quasi ribrezzo. Si domandava, chi avrà usato queste cose che io tocco con le mie mani? E le pareva di essere in un albergo. Si abbandonava al lontano ricordo odoroso di pane e di sole col sollievo di non dover nascondere, né colloqui con l'anima sua, gli umili desideri che l'avevano rallegrata bambina e che tornavano, spenti e sbiaditi, nella sala della sottoprefettura. «Povera bambolona!» ripeteva il cavaliere Gaudelli, tornando di fuori con le scarpe così bagnate che lasciavano i segni sul tappeto di cocco. «Compatisci te stesso, babbone!» replicava Franca. «Sei un pesce fuor d'acqua, o meglio un pesce che ha cambiato acqua. È un altro il mio caso. Ma tu, bambolona mia, perché mi sei venuta dietro?» «Sicuro, perché?» «Hai portato le cartoline, i francobolli!» «Due pacchetti di cartoline, col panorama fotografato da tutte le parti del paese. Basteranno alla tua fame?» Franca rise. Non scriveva solo alle amiche, ma si rammentava di mandare saluti e pensieri affettuosi anche a certe antipatiche signore conoscenti di zia Fabiana, perché non fosse dimenticata da alcuno. All'improvviso spiove. Franca uscì col padre, che si sentiva ringiovanire cercando di accordare il suo passo con l'elastico e leggero passo della figliola. «È il sottoprefetto nuovo», si dicevano le femminette salutando. «È sua moglie, troppo giovane per lui. Ma anche lui è un bell'uomo!» Il cavaliere Gaudelli afferrava le esclamazioni di rispettosa curiosità che a volte lo rallegravano, a volte lo mortificavano un poco. Andavano per il silenzioso e deserto viale dello chalet, su per lo stradale del calvario che pareva lavato. L'erba fresca e rinnovata dalle piogge fremeva tutta, piegandosi sotto la ruda e carezza del vento. E l'aria odorava se un raggio di sole riscaldava la terra. Andavano in silenzio, tirandosi da parte ogni tanto per lasciar passare un irrequieto branco di capre guidato da un uomo chiuso nel cappotto nero. Franca usciva con una speranza che era sempre meno lieta. Tornava con una delusione che era sempre più scura. La speranza di incontrarlo. Usciva solo per questo. Passando per le vie del paese soguardava le finestre delle case che parevano disabitate. E se egli l'avesse veduta? Non si sarebbe mostrato? Tornando, aveva le mani piene di delicati coltici autunnali, era stanca ed oppressa. Il padre, che si era fatto socio del circolo, l'accompagnava fino alla porta. Ciao, bambolona, torno presto, ma se hai appetito cena pure senza aspettarmi. Ella andava alla finestra per vederlo passare sul ballatoio del circolo. Passava e spariva. Forse anche lui passava e spariva. Ogni sera aspettava il padre fino a tardi. Egli le raccontava tutte le piccole novità della serata. Le chiacchiere, le partite a biliardo, i commenti fatti alle notizie dei giornali. Io ti faccio divertire, esclamava, convinto che Franca si potesse interessare dei suoi racconti. Nominava le persone conosciute, annunciava delle visite. Verrà la signora Florio, la moglie del segretario comunale. È vecchia, aggiungeva con un po' di disprezzo, ma è una buona donna. Franca aspettava ansiosamente un nome, un nome che il padre non pronunciava. E si sentiva disfare dalla stanchezza dell'attesa. Forse egli non viveva in paese ed era inutile aspettare. Veniva la Florio, venivano altre signore. Facevano a malincuore visita a una ragazza per obbedire ai mariti che avevano da fare col sottoprefetto nuovo. Le riceveva il più affabilmente che poteva nel freddo e ricco salotto non suo, offrendo il caffè, suonando, mostrando la cartella degli acquerelli, chiacchierando. Le signore, dall'aspetto grave e materno, rispondevano di sì o di no, sprecando poche parole. Nelle brevi e calme pause, Franca era salita da una prepotente voglia di parlare di Stefano alle visitatrici che lo dovevano conoscere, di piangere sulle loro robuste ginocchia. Restando sola, in mezzo al salotto troppo grande, aveva la gola asciutta. Con gli occhi sui fioroni del parato pensava a Fanny, al salotto della del Rua, al giardino dei Mamola, a tutto quanto aveva abbandonato inutilmente. Disse il cavaliere Gaudelli, dimenticavo che ho fatto la conoscenza di un certo mente sana, proprietario di terre, straricco. Il figlio di questo mente sana, un noto rosso come una pannocchia. Non è possibile che sia rosso, esclamò Franca con un piccolo grido. Perché è impossibile? Fece il padre. Non precisamente rosso, biondo scuro. Un sorgnone, continuò, molto antipatico. Il padre mi piace. Si parlava di miniature antiche e io l'ho invitato a vedere la mia collezione. Ti dispiace? Franca non l'ascoltava più. Ma temo di non aver portato questa collezione. Bella figura farei. Franca ti domandavo, abbiamo portato la cassetta rossa? Sì, babbo, mormorò Franca con uno sforzo. Pensava, non è Stefano, gente che porta il suo nome. Forse Stefano non vive in paese. Lo vedrai, le rispondeva l'anima in tumulto. Lo vedrai. Preparò le paste, i fiori e si fece bella. Con un nastro aveva legato sulla nuca i capelli che crescevano lentamente e alle spalle aveva l'aria ad una bambina troppo alta. Le pareva di sentir la voce di Fanny. Attenta, Franca. Doveva cominciare col piacere a suo padre. E se l'ospite non è suo padre? Si domandava inquieta. Eccolo. Nel grande salotto entra il signor Mentesana, un vecchio diritto, bianco, che pare un colonnello in borghese. Non è solo. Stefano lo accompagna. Come tutto avviene semplicemente nella vita. Mia piccola Franca, ti presento i signori Mentesana. Franca vorrebbe esclamare. Ci conosciamo. Ma la gola è così secca che l'esclamazione si ferma nel sorriso della bocca sbiancata. Le farò vedere la mia collezione, disse il signor Mentesana dopo aver osservato i pochi medaglioni che il cavaliere gli aveva mostrato. La mia casa è aperta per lei. Venga a trovarmi. Stefano aggiunse. Papà ne ha una spettacolosa. Da quanto tempo la fai, papà? Senza spendere un soldo, beccando i suoi piccoli tesori di qua e di là con l'aria di farsi dare delle cose inutili. pareva che lo Stefano conosciuto nel salotto della Del Roy si fosse cambiato un poco. Era quasi allegro. Più disinvolto, più sicuro di sé. A lei piace, signorina, questo genere d'arte? Immensamente, rispose Franca. A me no, fece Stefano. Mentesana padre, disse. Non posso permettermi di invitare anche lei, signorina. Mia moglie non esce mai. Pure la farò venire. Ma niente affatto, esclamò il cavaliere. Franca verrà volentieri a conoscere la signora. Non è vero, bambolona? Una forestiera che si presenta per la prima, continuava a ripetere Donna Lucia Mentesana con disprezzo. Ho insistito io. Può dirtelo Stefano se ho insistito, esclamava Don Mario Mentesana. Sì, papà ha insistito, fece Stefano entrando. Sarebbe più gentile se andassi tu prima che... Io? Far visita a una ragazza. Ti assicuro, replicò Don Mario, è una signorina per bene. E il padre? Oh, lascia stare il padre. Interruppe Donna Lucia a bassa voce perché non udisse Maria Luisa. Dicono che sia un gran donnaiolo. Insomma, tu hai fatto male a invitare simile gente. Stefano si allontanò, sapendo che il padre, timido e irresoluto, soffriva quando la moglie, avviando i suoi interminabili battibecchi, lo rimproverava in presenza dei figli. Pentito di essersi recato in sottoprefettura, si preparava a tornare subito in campagna per non essere tentato di ricevere anche lui la visita che turbava tanto la madre. Era andato per curiosità e per vanità, chiedendosi se Franca non fosse venuta in paese per lui. Era passato più di un anno dalla primavera di Firenze. Forse non si era ricordata di lui una sola volta. Un anno. Così diversa, così lontana. Il caso aveva mandato suo padre laggiù e lei l'aveva seguito. Per un capriccio o per un calcolo. Un anno. Così lontana. Così diversa. Era venuta per lui, come una donna che si offre. L'aveva sentito. Questa sensazione era sgradevole e aveva bruscamente cambiato la sua vanità in una specie di avversione. Aveva paura, guardandola, di dirle «ti amo» e di stringersela tra le braccia senza volerle bene. «Sono mortificato», ripeteva il cavalier Gaudelli ammirando un prezioso ventaglio antico. «Davvero mortificato di averle mostrato la mia povera raccolta». Franca, cercando di interessarsi degli oggetti che il vecchio mentesana le metteva davanti con orgoglio, aveva la sensazione che gli sguardi scrutatori della signora mentesana e quelli furtivi di Antonio, seduto nel canto più scuro del salotto, immobile come una statua di bronzo, e le brevi occhiate piene di curiosità della moglie di Antonio restassero nell'aria come un velo di nebbia. I divani e le poltrone alte e dure, la tappezzeria a fondo violaceo, i grandi quadri a olio, le vecchie armature, il massiccio lampadario, tutto le pareva solenne, strano, ostile. Poi venne Maria Luisa, come se un fiore fosse luminosamente fiorito per prodigio nel salotto. Le si sedette a fianco e la guardò con estatica ammirazione. Franca, rianimata, lasciò le miniature per andare assieme a Maria Luisa a guardare dal balcone il giardino ancora verde chiuso dall'alto muro. E Maria Luisa le prese una mano, come si fa in collegio con l'amica preferita. Cara, le disse Franca, ci vorremmo bene e ci daremo del tu. Tanto bene, rispose Maria Luisa, e lei mi darà del tu. I suoi occhi bruni erano così miti e dolci che parevano dire com'è bella la vita. Maria Luisa volle rendere subito subito la prima visita alla signorina Gaudelli. Poi volle vederla ogni giorno, la volle qualche volta a pranzo. L'avrebbe voluta dormire nella sua cameretta, se la madre avesse permesso tanta domestichezza. E non avrebbe fatto altro che parlare di Franca dalla mattina alla sera, se in casa non si fossero infastiditi del suo entusiasmo. Aveva sedici anni, e a sedici anni si vuole sinceramente bene all'amica prediletta, specie quando l'amica è una signorina che sulle prime dà un po' di soggezione. Meglio che venga lei, pregava. Mamà non mi farebbe uscire ogni giorno. E poi non se l'abbia a male. A casa nostra è tanto piacevole. Sì, era tanto piacevole. L'autunno indugiava mollemente, e il sole era così caldo ancora che faceva dimenticare le violente piogge passate. Scendevano tutte e due nel giardino grandissimo, chiuso dall'alto muro che smorzava il rumore del paese. Il rotolio d'un carro, lo schioccare allegro d'una frusta, l'anenia d'un canto che si allontanava. Piacevole, sì, posare il piede sul tappeto di foglie che, calpestate, sussurrono e gemono. Ascoltare il chiacchierio di Maria Luisa che raccontava le piccole novità delle sue giornate, di Maria Luisa che adorava la sua amica grande. Stefano si vedeva di rado. Se non andava in campagna, era tempo di vendemmia, restava tutto il dopopranzo nello studio. Verso sera, quando Franca era andata via o stava per andarsene, saliva sopra. «Meglio, meglio!» faceva Maria Luisa. «È così noioso avere i miei fratelli fra i piedi!» Franca approvava con un sorriso. Abbracciandola si nascondeva il volto tra i capelli di Maria Luisa, perché Maria Luisa non la vedesse arrossire. Il cuore le batteva in disordine e sulle labbra salivano pazze parole di disapprovazione. Un giorno Maria Luisa, che andava mostrando all'amica ogni stanza della casa, ogni oggetto che le sembrasse bello, aprì l'uscio del salotto chiuso a chiave. Al buio andò a spalancare il balcone, e le alte e dure poltrone, i quadri, le armature, i vecchi marmi delle console cariche di minuzie, di balocchi, di bestiole imbalzamate, brillarono nella luce del sole. Qualche doratura luccicò in fondo alla parte più buia. «Quanti quadri!» disse Franca. «Quanti occhi che guardano! Volti chiusi e cerei nel fondo cupo della tela. Occhi penetranti, misteriosi, che seguivano i passi e i gesti delle due amiche, in ogni punto della vasta sala. Tutti parenti. Gente antica, però», fece Maria Luisa ridendo. «La contemplano, e anche lei li contempla. Io li conosco tutti e so la storia di tutti. Racconta Maria. Quello col goletto di pizzo che tiene una mano aperta sulle pandette, si legge ben chiaro la parola pandette, fu sindaco del paese. E questo giovanetto che la guarda, se va a destra o se va a sinistra, vede, dicono che l'anima sua non abbia ancora trovato requie, perché è morto di mala morte. La fidanzata lo tradì e lui si uccise con un colpo di pistola. Siete così, voi altri? Come così? Che vi sparate se un amore va male? Ma no», rispose Maria Luisa ridendo. «I tempi sono cambiati». «Pure», aggiunse facendosi seria, «se si vuol bene per davvero». Franca la guardò. Avrebbe voluto mormorare. «Dimmi, lui si ucciderebbe se mi amasse». Abbassò la fronte e socchiuse gli occhi. «Quello delle pandette», continuò Maria Luisa. «Ha ucciso la moglie». «La moglie». Se lo meritava, sa? Poi ha corso come un disperato e si è buttato nel fiume. L'hanno ripescato. I contadini assicurano che certe notti si ode un urlio nel fiume. È la sua povera anima che si lagna. «Mi fai paura», esclamò Franca un po' eccitata. «Andiamo in giardino. Codesta è tutta gente che o si è uccisa o ha ucciso». «Ho scelto le storie più divertenti», rispose Maria Luisa. «Hai quasi ragione», disse Franca sorridendo. «Noi ci divertiamo col dolore degli altri». «Non volevo dire così», esclamò Maria Luisa mortificata. «Volevo dire che qui ci sono tanti ritratti di persone che son vissute in pace, ma la loro storia non è interessante». Col ritorno delle piogge e col primo freddo invernale poche stanze furono abitate e riscaldate. La moglie di Antonio, incinta e sofferente, si ritirava nel suo appartamentino subito dopo aver mangiato alla tavola dei suoceri così come era costretta. E Antonio si occupava a pian terreno a educare un piccolo levriero, a imbalsamare uccelletti, a pulire i suoi fucili da caccia. Generalmente essi si facevano vedere pochissimo. Nessuno andava più in campagna. Perciò Stefano restava tutto il giorno nello studio col padre, ma qualche volta saliva nella sala da pranzo a scambiare quattro chiacchiere con Franca e Maria Luisa. Donna Lucia metteva in ordine le robe da estate, sorvegliava le serve che facevano la conserva di cotogne e il sanguinaccio, accudiva faccende sempre nuove, poiché l'occhio della buona massaia non si riposa un momento. Maria Luisa ricamava a telaio e Franca veniva con un lavoro nella borsetta. Aveva imparato a ricamare per tenere compagnia alla sua piccola amica e per piacere a Stefano. Per piacere a Stefano portava i capelli raccolti sulla nuca, senza fiocco, e andava scucendo dagli abiti le guarnizioni che le parevano troppo vistose. Stefano si divertiva a dar noi alla sorella, peggio di un ragazzo. Le nascondeva a gomitolo e forbici o le scioglieva le trecce, ma più spesso portava un grosso e robusto quaderno dove raccoglieva le poesie che più gli piacevano. E leggeva forte. Gli piaceva leggere forte perché aveva una bella voce pacata e armoniosa. Le ore passavano chete e piacevoli, ma certe volte Franca si accorgeva di aver levato lo sguardo su di lui che completava la lettura, a memoria, guardandola negli occhi. Allora abbassava la fronte, smarrita. E Maria Luisa arrossiva, bucando con secco affrettato rumore la tela tesa sul telaio. Franca abbandonava, ad una ad una, le sue fragili arti per sedurre Stefano come il vinto che lascia cadere, ad una ad una, le armi non più utili. Diventava semplice, un pochino impacciata e timida, come Maria Luisa. C'era nel mondo signorine eleganti, spiritose e civette come Silvia o come Mary? Non era tutto lì, il mondo intero, nella tranquilla stanza dei mente sana, nel voluttuoso sguardo di Stefano che ripete a memoria le ultime parole d'una poesia guardandola negli occhi? Quando Stefano lasciava Franca, gli pareva di svegliarsi. Standole vicino, svaniva la diffidenza e quella specie di avversione provata nel rivederla. Ma restando solo, rivedeva la signorina Gaudelli conosciuta nel salotto della Del Rua. La Franca, dai capelli corti, che rispondeva ora con malinconia studiata, ora con gaiezza studiata, agli sguardi lucenti di ammirazione, di invidia, di desiderio, che avevano dovuto corrompere la sua fantasia. La diffidenza tornava e subito spariva a chiaro scuro. Era venuta per lui, per capriccio o per calcolo. Non fingeva anche ora, come nel salotto della Del Rua, per piacergli. Tornando a pensare a Valeria, si tormentava per guardarsi nel fondo dell'anima. L'aveva veramente amata? Forse no. Forse aveva sofferto solo per orgoglio. Valeria, che l'aveva offeso col suo tradimento, era morta nel ricordo e moriva nel suo rancore. Amava Franca? Forse. Ma non le credeva. Chiederle una parola sincera. Ma l'avrebbe ella detta? L'avrebbe egli creduta. Non le credo, si ripetè con amarezza. Così lontana, così diversa. Ebbe di nuovo paura di gridarle ti amo, senza volerle bene. E un bel mattino Stefano partì per la campagna, sebbene cominciasse a nevicare, con una scusa che parvi a tutti naturale. Correndo sulla giumenta nera, in mezzo alla neve soffice e intatta, era felice di fuggire per qualche tempo. Guardando le finestre chiuse delle altre case, la neve infangata della strada deserta, una bandierina di ferro nero che girava su un comignolo battuta dal vento di tramontana, pensava alle cose abbandonate. Sentiva il profumo di Pompeia, di Nidia, la voce di Silvia, il canticchiare sommesso di Fanny. Fanny era sposata e si chiamava Maurino, ma non doveva essere cambiata. Passeggiava con le stesse amiche rimaste signorine, ciarlando e ridendo. Anche lei aveva ciarlato e riso con loro, illudendosi per qualche ora di essere felice, di non essere del tutto sola. Il destino si era fatto beffe di lei, guidando i suoi passi verso il paese morto, pieno di opprimente, ostile e profondo silenzio. Cominciò una lettera a Fanny. Scrisse in fretta, come se qualcuno dettasse, ma poi la mano si rallentò e la penna le rimase ferma, sospesa fra le dita. C'era, sì, qualche cosa che voleva dire all'amica di un tempo già lontano e non osava. L'avrebbe canzonata, Fanny, con la sua risatina viva, viva, e avrebbe avuto ragione. Maria Luisa, in mezzo all'uscio, tossiva per farsi sentire. Si fece avanti, chiamandola. «Cara, sei tu!» esclamò Franca finalmente. «Credo di essere io», rispose la fanciulla stizzita. «Venivo per invitarti, ma tu non avevi alcun bisogno di me, evidentemente». «Non ti avevo sentita», si scusò Franca posando un libro sulla lettera non finita. Maria Luisa sbirciò, corrugando la fronte, il foglietto mezzo nascosto. «Addio», esclamò. «Vedo che ti do noia, niente affatto, scrivevo. Lo vedo. Scrivevi a casa tua?» «Sì, cioè no, a un'amica, una stupida lettera». «Non si piange quando si scrivono lettere stupide?» «Non piangevo». Maria Luisa levò sul volto affocato di Franca i grandi occhi ricolmi di rimprovero e di domande. «Non mi credi neanche tu?» «No». «Ebbene, tu sei una bambina indiscreta. Guarda». Franca scostò il libro. «Cara Fanny». Maria Luisa si imbronciò. «Questa Fanny non era una bambina». Franca sorrise. «E per questo solo le volevi più bene di me?» «Più di te, no». «Era un'amica?» «Come te». «Le raccontavi tutte le tue cose?» «A un'amica si racconta tutto. Non si tratta da bambina». «Le facevi leggere le lettere che scrivevi?» «E tu vorresti leggerle?» «Leggi». «Io no, non mi riguarda questa tua Fanny». Era gelosa Maria Luisa. La sua gelosia avrebbe spezzato il filo che teneva Franca unita alla casa di lui. «Leggi», ripeté decisa. «Io non ho segreti per te». Allora Maria Luisa, pentita delle indiscrete insistenze, non volle prendere in mano il foglio che Franca, un po' in collera, le porgeva. Ma finì col dire timidamente. «Leggo forte?» «Come vuoi». «Questo paese è antipatico». «Vedi?» si interruppe subito. Continuò a leggere sottovoce, più mortificata che sdegnata. «Vedi?» si interrompeva. «E di me non parli. Già, io non sono niente per te. Vado ogni giorno in casa mente sana. Qui finisce. Peccato averti interrotta. Chissà come ci avresti dipinti alla tua Fanny». «Non essere cattiva, Maria», rispose Franca. «Non ti accorgi che io voglio bene solo a voi altri? Che resto qui per voi? Che non fuggo via per voi da questo brutto paese? Sì, è un peccato che la lettera finisca qui». Parlava lentamente, con voce così arrocchita che non pareva la sua. Tanto temeva di rivelarmi, l'ansia del suo pensiero. Si nascose il volto tra le palme e chinò il capo, smarrita, per non gridare il nome di Stefano. «Sai perché sono venuta?» esclamò Maria Luisa di nuovo tranquilla. «Domani è la festa di papà. Avremo parenti a pranzo e io son riuscita a far invitare anche te». «Se non volevano, bene, Maria». «No, no, volevano. Ma tu lo sai. Mamà ha certe idee tutte sue. Dice che non si invita a pranzo una ragazza sola. Idee? Ma ti vuole tanto bene. È di poche parole. Ma ti vuol bene. Che fai adesso?» Franca stracciava la lettera a Fanny in quattro pezzi. La cosa piacque immensamente a Maria Luisa, che ritrovò il suo buon umore un po' capriccioso. girellò per le stanze, osservando i pesanti mobili della sottoprefettura, i piccoli oggetti che appartenevano a Franca. Alla fine sedette per divertirsi a guardare le cartoline illustrate riunite in un album. «Anch'io raccolgo le cartoline belle», esclamava. «Te le farò vedere. Ma questa è brutta. Perché la serbi?» «In ricordo». «Chi te la mandava?» «Gaddo». «Chi era Gaddo?» «Un amico». «Ti scriveva certe frasi». Che frasi? «Tendress. Non ti scordar di me. Usque dum vivam et ultra. Questa poi. Conosci il latino?» «No. È del Daniele Cortis. So che significa». «Certe volte non significa niente scrivere così. Sono parole copiate dai libri», aggiunse, per far la corte alle signorine. Avere turbato, Maria Luisa le faceva piacere, senza sapere perché. Maria Luisa, imbronciata, le faceva pensare a Stefano nelle serate di Firenze. «Lascia l'album adesso», esclamò bruscamente. Maria Luisa continuava a sfogliare l'album, in silenzio, scostando le cartoline per leggerle. «Ci sono anche delle fotografie? E ci sei tu?» Franca in biroccino. Franca in sandolino, in bicicletta. «Andavi in bicicletta?» «Sì, Maria. È molto comune oramai andare in bicicletta. Anche nelle vostre città deve essere lo stesso. Nel tuo cervellino si è attaccata qualcuna delle idee della mamma. «Questo che si è seduto per terra, ai tuoi piedi, come un cane? Chi è? Quello che mandava le cartoline. Non ti scandalizzare, Maria. Credi che tutto il mondo sia così piccolo e cupo come qui?» Maria Luisa arrossì. Pensava che Franca non poteva volerle bene. Aveva troppi anni più di lei ed era vissuta lontano, nelle città grandi dove tutto è diverso. Continuò a guardare le fotografie senza domandare nulla. Anche Franca le guardava, come se le vedesse per la prima volta, rileggendo le firme che si sbiadivano sotto i piccoli gruppi. Fanny, Celeste, Silvia e sempre Giulio e sempre Gaddo e sempre Franca. Ma era lei la Franca dei ritratti. «Arivederci!» esclamava Maria Luisa. «Mamà, aspetta!» Franca staccava le cartoline dall'album che pareva lagnarsi con lo scatto secco di ogni quadrato nel restare vuoto. «Aiutami!» rispose. «Lascia che la mamma ti aspetti. Che fai?» «Brucio. Non lo vedi?» «Aiutami». «Erano dei ricordi per te?» «No, cara, un ingombro e niente altro». Ecco le infinite cartoline di Gaddo, di Giulio, delle amiche. I ritratti, la lettera fatta a pezzi di Fanny. La prima fiamma si allungò e si ritrasse col fumo. Si levò rossa e limpida sulle carte ammucchiate, divorandole e accartocciandole. Poi si spense, a poco a poco, lasciando nel mucchio nero e crespo qualche firma ancora leggibile, qualche fotografia quasi intatta. La fiamma fu ridestata e consumato ogni avanzo. «Sei contenta, Maria?» esclamò con tristezza. «Ti ho dimostrato che non voglio bene ad alcuno, altro che a voi». Maria Luisa, tutta accaldata, sedette sulla proda, legando in piccoli mazzi i ranuncoli, le pratoline, i ciclamini, colti ora nell'ombra, ora nel sole. «L'aria libera fa girare il capo dopo tanto freddo», esclamò Franca. «Sei stanca?» «Tu no. Io sono più abituata. Se potessi», fece Franca, «vorrei vivere in campagna». «Tu», esclamò Maria Luisa, «non ti pare possibile?» «Sempre, sempre!» «Sempre, sempre! Anche noi abbiamo un podere lassù, tutto a mandorli e olivi, ma non ci siamo andati mai!» «Vedi? Ma io vi andrò per sempre!» Maria Luisa non rispose. Non le pareva possibile che Franca preferisse la campagna alla città. Sfogliava una pratolina, lentamente. Strappò l'ultima foglia con un piccolo grido di trionfo. «Le margherite non sono mai bugiarde?» domandò Franca, ritrovando ad un tratto la sua risatina ironica. «Mai», rispose con serietà, Maria Luisa, «bisogna interrogarle con fede. A me hanno risposto sempre di sì». «Hai un segreto anche tu?» Maria Luisa arrossì. I suoi oblunghi occhi erano così dolci e così lucenti di felicità che parevano dire «com'è bella la vita!» «Vedi?» continuò Franca, «che certe cose non si raccontano neppure alle amiche». «Non è più un segreto da ieri», murmurò Maria Luisa. «Avevo tanta voglia di dirtelo. Cesare Tagliatela è venuto ieri sera all'improvviso. È un lontano parente, un cugino. Non meritava un nome così brutto, lui che è così elegante. Se lo vedessi, ma lo vedrai, viene ogni anno di questi tempi. Ha uno studio di pittore a Roma». Si interruppe, ripigliò. «Non speravo che la cosa bella dovesse avvenire per davvero. Eppure lo aspettavo. Lo aspettavi senza sperare? Quasi senza sperare. Dicevo a me stessa, è impossibile. Eppure sentivo che sarebbe venuto apposta per me. Oggi sono tanto felice. Egli è venuto, come mai osavo sperare, all'improvviso». Franca intrecciò le mani sulle ginocchia. L'aria molle e ronzante la stordiva. «Ecco che l'amore era venuto all'improvviso per la sua piccola amica, proprio come la primavera che si mostra all'improvviso in un'alba più luminosa delle altre albe». «Ho tanta paura di Roma», confidò Maria Luisa. «Paura di Roma? Lui non è come Stefano, come noi tutti. Mi pare tanto difficile che io, una povera ragazza cresciuta in paese, possa piacergli a Roma come qui». «Socchina», esclamò Franca. «L'amore è assai più forte di Roma». Donna Lucia ordinò. «Tutti a letto per mezz'ora. Anche te», disse al marito, «altrimenti non avrete la forza di tornare a casa». E poiché le ragazze si divertivano a ribellarsi, non le lasciò sole, se non dopo averle vedute chete, né due lettini preparati, allora chiuse le imposte e si allontanò in punta di piedi. «Franca», mormorò Maria Luisa. «Cara», rispose Franca. «Dormivi? Io non ho sonno, neanche io. Te lo farò conoscere domani stesso. È più alto di Stefano e più bello». «Franca, Maria, senti, tu hai veduto Roma?» «Sì, due volte. Quanto è più grande di Palermo?» «Franca, tu non mi senti più. Dormi. Senti». Certo, Franca dormiva. Anche Maria Luisa si addormentò placidamente. La stanza era troppo calda e un moscone ronzava senza tregua. Da una spaccatura dell'imposta passava la luce viva e rossa del sole. Il capo le pesava e le lenzuola scottavano le carni come se fossero diventate di fuoco. Scese dal letto e, posando i piedi nudi per terra, tremò tutta, rabbrividendo, come se avesse infilato le gambe nella neve. Non capiva di avere la febbre. Però si ostinò a infilare la veste e scese le scale. Si fermò a un rumore. Poi attraversò la saletta, in punta di piedi. Uscì cautamente, avida di trovare un po' di ristoro al calore di fuoco che portava addosso. Si affannò a salire. Scese verso una conca verde e profonda, ma il fresco dell'ombra la ghiacciava tutta senza darle ristoro. Continuò a salire, inginocchiandosi per la stanchezza. Vole tornare. Ma il capo le pesava quasi fosse diventato di piombo e non ritrovava più la strada. Le si parò davanti una robusta siepe di rovi e di fili di ferro. Cercò un'uscita. Di qua, di là, dietro, davanti, le si parava la stessa siepe dove si era chiusa senza sapere come. Un somaro sciolto divorava l'erba. Nel cielo si addensavano nuvole scure e qualche goccia le bagnò le spalle. La bestia era fantasticamente smisurata e le sue orecchie giungevano sino alle nuvole. Chiamò Maria Luisa. Le rispose l'eco. In confuso pensò che era inutile chiamare perché era troppo lontana e nessuno la poteva sentire. I mentesana sarebbero partiti, lasciandola sola, di notte, chiusa nell'immensa siepe senza uscita. Franca ha disobbedito, si sarebbe giustificata donna Lucia. Donna Lucia era ostile e diffidente, come tutti coloro che la circondavano. «Io sola posso aiutare me stessa», pensò rapidamente. Corse di qua e di là, avvicinandosi sempre più alla bestia smisurata che la spaventava. Si fermò, cercando di vedere attraverso il velo rosso e viola che le si stendeva davanti. Un passo, cauto e pesante, un fruscio di rami smossi. Era un uomo che un po' somigliava ad Antonio, un po' a Stefano. Sentiva la voce che le faceva paura, ma non riusciva a vedere bene. Il capo le si piegava verso terra. Anche l'uomo le faceva paura, ma non poteva sfuggirgli che aveva perduta la strada. «Ora è stanca», rimproverava Stefano. «Ma perché si è cacciata qui dentro? Si appoggi a me». Franca restava ferma e spaurita. Allora egli la prese per la vita, delicatamente, e cominciò a scendere. Sentiva sul suo braccio, che la teneva, il tremare delle gracili spalle. Era sua. Si offriva a lui. Smarrito nella sua debolezza di uomo sano e forte, mormorò chinandosi. Franca. Allora Franca, più fortemente spaurita, trovò la forza di fuggire. Corse avanti, con le ginocchia che le si piegavano nella corsa, col cuore che le si spezzava. Ecco la casa. Ecco Maria Luisa alla finestra. Ma Franca non vedeva nulla. Scivolò, cadde, e le parve che la terra l'avesse presa con cento e cento braccia invisibili e tenaci. Stefano si affacciò sull'uscio, col cappello in mano. Passi, invitava il cavaliere Gaudelli. Franca si è alzata, si accomodi. Stefano entrava per la prima volta dopo la visita che aveva fatta assieme a suo padre. Come tutto avviene semplicemente nella vita. Sta meglio adesso. Non ho più febbre. Ha camminato troppo al sole quel giorno. Si dicevano cose stupidi, banali, col cuore intumulto. Ha avuto paura di me. Non la riconoscevo. L'avevo sentita uscire. L'ho cercata tanto. Ma perché si era arrampicata lassù? Tacquelo. Aspettava Stefano che il cavaliere Gaudelli li lasciasse soli. Gli tornavano sulle labbra le parole buone che avrebbero domandato risposte sincere. Franca. E poi null'altro. Il cavaliere Gaudelli, che voleva essere cortese, ridestava la conversazione. Una curiosa febbre salita a quaranta. Forse una specie di insolazione. Leggeva? Esclamò Stefano. Legga forte, pregò Franca, porgendogli il libro che teneva sulle ginocchia. Ecco, disse Stefano, un poeta che non va a letto forte. Ha sentito la voce delle cose naturali, delle cose semplici e buone, che non hanno mai toni troppo alti. Sfogliava il libro sino in fondo, senza leggere. Franca mormorò. In queste pagine manca l'amore. Tutt'altro, esclamò Stefano. Sono tutto amore. Franca non replicò. Il suo pensiero era così confuso che le mancavano le parole per esprimersi. Amore francescano, continuò Stefano, vasto e puro che abbraccia tutto il mondo, col bene e col male. Tacquero. Stefano ripigliò a sfogliare sino alle ultime pagine. Disse. Ha mai letto i versi scritti dalla sorella? Mai. Non mi piacciono i versi delle donne. Questa ha detto in poche righe tutto quel che una donna può dire. Non ha forzato la sua poesia per esprimere sentimenti che la donna non può provare o che non dovrebbe confessare. Lesse. Erano sogni. Sono. E nell'eterna ombra voi resterete, e su voi scende l'oblio del tempo, o figli miei non nati. Sogni. Ed è vana l'opera materna, e vani i baci, che nessun mi tende le sue manine, o figli miei non nati. Il cavaliere si alzò, trattenendo uno sbadiglio. Caro mente sana, invitò. Andiamo a fare due passi? Maria Luisa, impaziente di presentare il fidanzato all'amica, fece grandi feste. Come sono contenta! Come sono contenta! Vieni subito nella stanza da pranzo. Cesare! Cesare! Ecco Franca. Franca Gaudelli, corresse Franca, rammaricandosi di portare il suo modesto abito da casa. La signorina Gaudelli, esclamò Cesare. Me ne parlava Giulio Nelli, il mio carissimo compagno d'università. Franca trasalì, pregando Cesare con lo sguardo. Non è quello delle cartoline? Salto su Maria Luisa. No, rispose seccamente. Cesare cominciò a parlare d'altro. Ma Franca non lo ascoltava, pensando ostinatamente che per un anno aveva scritto a Nelli ogni sera, e forse Nelli aveva mostrato all'amico le sue povere lettere. Per questo Cesare la guardava con fredda curiosità, e ora le accennava con un lievissimo sorriso che aveva capito e non avrebbe parlato. Anche lui, come Stefano, pensava male di lei. Ebbene, era necessario spiegargli. Che cosa? Come poter parlare, da solo a sola, col fidanzato di Maria Luisa? Franca insegnò nuove pettinature alla sua piccola amica fidanzata, l'aiutò ad abbellire i vestiti d'ogni giorno, le regalò una boccetta di profumo dimenticata fra gli oggetti inutili. «Li piacerò di più così», diceva Maria Luisa con riconoscenza, guardandosi nello specchio prima di scendere nella sala da pranzo dove il fidanzato aspettava. Nella sala da pranzo c'era, immancabilmente, donna Lucia, che non riusciva a conciliare il dovere di sorvegliare i ragazzi con l'interesse di badare alle faccende di casa. C'era anche Stefano, che se ne andava subito, seccato, addolorato. Egli veniva per persuadersi sempre più che Franca si andava trasformando dal giorno che aveva veduto Cesare. Un bel giovanotto, con la piega nei calzoni e il complimento ben fatto, pronto sulle labbra. A poco a poco tornava a somigliare nel modo di vestire, di muoversi, di sorridere, alla Franca del salotto della Del Rua, alla piccola Valeria di Palermo. Era inevitabile. Se ne andava subito, abbuiato dal cruccio e dalla gelosia. Allora donna Lucia, rassicurata, affidava a Franca una mezza prova di fiducia. «Ho bisogno di andare in cucina un momento», le diceva. «Faccia un po' da sorella grande a Maria Luisa». I fidanzati non le davano tanto pensiero quanto gliene dava il vedere Stefano in compagnia della figlia del sottoprefetto. Cesare esclamava. «Soli col nostro grazioso chaperon? Non ci sarebbe da stare tranquilli, mamma». Maria Luisa rideva arrossendo. Franca sorrideva e un sapore amaro le saliva nella gola. Sentiva nella voce, nello sguardo di Cesare, una cert'aria di intesa, di protezione così confidenziale che la offendeva e la turbava. Nell'allontanarsi di Stefano, il tornare della diffidenza. Era festa e nella stanza da pranzo si erano riuniti tutti. Solo Antonio e la moglie mancavano, come sempre. Cesare, che parlava con piacere di se stesso, descriveva da un pezzo il suo studio da pittore senza accorgersi che la stessa Maria Luisa tratteneva gli sbadigli. Il vecchio Mentesana e il cavalier Gaudelli cominciavano a giocare a scacchi senza badarli. Donna Lucia sonnecchiava e Stefano era assorto a deviare il cammino di una fila di formiche sul davanzale della finestra. Franca lo interruppe. «Vol farmi il ritratto? Volentieri», rispose Cesare. Guardò Maria Luisa, poi la futura suocera addormentata. Infine Stefano, che quasi lo avessero chiamato, si era avvicinato a Franca. «Falle il ritratto, Cesare», approvò Maria Luisa entusiasmata. «Credo che potremo fare sul terrazzo il nostro atelier», esclamò Cesare, che aveva la smania delle parole straniere. «Vogliamo andare a vedere? Babbo», esclamò Franca vivacemente, seguendo i fidanzati. «Il signor taglia la tela, mi farà il ritratto». Stefano uscì dalla stanza, con la testa fra le spalle. Il terrazzo, che continuava nel giardino, aveva un bellissimo sfondo verde che Cesare volle nascondere con un tappeto steso su una corda. Fu portato un cavalletto, due grandi cassette chiusi a chiave. Finalmente, dopo infiniti preparativi, il pittore si mise un camiciotto e un berretto di velluto nero. Franca, in camera di Maria Luisa, si faceva aspettare. Aggiustandosi per cominciare a posare, si accorgeva di essere diventata brutta e pallida. Si spettinò, si pettinò da capo. «Peccato», fece Maria Luisa impaziente. Franca crollò il capo. Si era invecchiata in pochi mesi. Era questa la vendetta dell'amore che ella aveva creduto di sentire nei flirt, nelle banali dichiarazioni dei corteggiatori da salotto. Mentre l'amore sano, bellissimo, forte, l'amore che giunge una volta sola, non aveva ancora picchiato al suo cuore. «Très bien», esclamò Cesare, senza alzarsi dal suo posto davanti il cavalletto. «Sarà il mio capolavoro, non ti pare, Stefano?» Stefano si avviò di malumore, senza rispondere, giù per la scaletta di pietra che portava in giardino. «Che diritto hai tu alla tua gelosia?» pensò Franca. Ma subito la certezza che egli fosse geloso la fece tremare tutta di speranza e di gioia. «È geloso perché mi ama, perché mi ama», si ripetè, e col rapido mutarsi dei pensieri le saliva sul volto impallidito un vivo e leggero color di rosa. «Guardi verso l'uscio», osservava Cesare, ammirandola dalla punta delle scarpette di pelle lucida alle grandi forcine bionde. «Brava, così. Maria Luisa, dammi il pennello che ho posato sulla cassetta». «Le giornate si accorciano e la nebbia ritorna sul paese», brontolò Donna Lucia, affacciandosi alla piccola finestra che dava sul terrazzo. «Quando la finirete, Cesarino?» «Ho quasi finito, mamma», rispose Cesare. «Pochissimi giorni ancora. Volete il caffè caldo o la granita?» «La granita, la granita», esclamò Maria Luisa. «Ma lascia un po' scegliere agli altri», fece Donna Lucia. «Tutti debbono obbedire sempre ai tuoi capricci». «Ha scelto bene», disse Franca, «e io faccio volentieri quel che vuole Maria Luisa». «Anch'io», esclamò Cesare. Maria Luisa tornò ad accoccolarsi, trionfante, presso il cavalletto, porgendo i pennelli al fidanzato. Il ritratto piaceva a tutti in casa, anche a Donna Lucia, che lo trovava molto somigliante. E Maria Luisa assicurava che Stefano, vedendolo, ne sarebbe rimasto stupefatto. Franca non diceva quanto l'ammortificasse il vedersi incollata sulla tela grigio fumo, in una positura, certo ispirata al presuntuoso dilettante da qualche illustrazione da cartoline. Continuava a posare, illusa di potere finalmente parlare, un minuto, da solo a sola, col fidanzato di Maria Luisa, sebbene il ritratto fosse quasi finito e finiti i lunghi dopopranzi. La partenza di Stefano, che restava in campagna, le faceva sentire più forte la necessità di spiegarsi con Cesare. Non sapeva precisamente che cosa dovesse spiegargli. Pensava, avvierò il discorso e troverò il modo di raccomandarmi a lui. Sì, di raccomandarsi. Egli l'avrebbe aiutata a levare la diffidenza dal cuore di Stefano. Stefano avrebbe creduto a lui, al nuovo fratello che entrava nella casa. E aspettava, ostinata e ansiosa. Abbiate pazienza, diceva Cesare che le dava del voi, con familiarità. Posate anche oggi per piacere. La mamma non comprende le esigenze dell'arte. Guardate verso l'uscio. Così. No, il busto un po' più eretto. La contemplava con gli occhi socchiusi, avvicinandosi, allontanandosi. L'avrebbe contemplata per ore ed ore, dimenticando i pennelli, la fidanzata, la suocera che si affacciava spesso a sorvegliare i ragazzi dall'alta piccola finestra. Allora Franca era eccitata dalla volontà di alzarsi in piedi e fuggire. Lo sguardo di Cesare, che pareva le si attaccasse avidamente sulle carni, la turbava. No, era inutile volersi giustificare con lui che somigliava a tutti gli altri, a Gaddo, a Nelli, a Paolini, agli amici del circolo e del tennis. Credere che egli l'avrebbe aiutata? Riudiva attonita alle parole di Fanny nell'ora del distacco. Parole crude ma vere. Ecco che Stefano se ne andava, forse per sempre, con passo prudente e cauto. Non c'era sole, ma l'umidità era così calda che pareva a tutti di avere sonno. Cesare scioglieva svogliatamente dei colori. Maria Luisa esclamò. La mamma ha certo dimenticato di mandare il caffè e corse via. Franca trasalì. L'occasione si presentava. Impreparata, mormorò. «Cesare, lei mi ha giudicata male». «Io», esclamò il pittore ridendo. Quando rideva, mostrando i forti e bianchi denti, aveva una faccia buona che ispirava fiducia. «Ho poco tempo e vorrei dirle tante cose. Per questo le sembrerà strano il mio modo di parlare. Quel Nelly che lei nominò era un mascalzone». Esitò, repigliando subito lo sfogo accumulato nei lunghi silenzi. «Sì, gli ho scritto delle lettere che lui le ha forse mostrato da amico». si interruppe di nuovo. «Come dire? Come dire a Cesare che un bacio non l'ha mai sfiorata? Che ella è pura come Maria Luisa?» «Ciò non mi riguarda», fece il pittore. «Ma voi perché continuate a darmi di lei? Siete la migliore amica della mia Maria?» «Volevo dire», ripigliò Franca. «Ecco Maria Luisa ed ecco il servo col vassoio». L'interruzione era stata brusca e violenta come il fermarsi di una macchina in moto. Era diventata così bianca che Maria Luisa le domandò che avesse. Ecco che Maria Luisa si allontana. Da qualche giorno Maria Luisa trova cento scuse per lasciarla sola con Cesare e Franca ripiglia il racconto interrotto. Ed ecco che Maria Luisa torna col suo passo leggero che fa male a sentirlo. Anche Cesare cerca di essere solo con Franca, lusingato dallo smarrimento e dalla fiducia della signorina che gli è piaciuta fin dalla prima sera, come ai ragazzi piacciono i balocchi nuovi. «Maria Luisa, andiamo in giardino?» Andavano per i viali silenziosi ed opachi. Maria Luisa si metteva a cercare piccoli funghi che poi buttava. Franca sedeva quasi subito. «Mi stanco». «Ti dispiace, Maria?» faceva Cesare, «se resto a fare compagnia alla signorina». «Perché?» esclamava Maria Luisa e la voce le tremava. «In mente sana sono malati di gelosia», osservava Cesare allegramente. «Stefano», cominciava Franca. «Oh, Stefano è un po' matto, credete? È onesto», mormorava Franca. «Ma non sa di fare del male con la sua onestà. Che è una virtù più gelida della morte», aggiungeva Cesare. «Ma ecco Maria Luisa che torna indietro». Passeggiavano ancora un momento, tutti e tre distratti. Franca si sentiva debole, accasciata, come se le vene si fossero vuotate. Stefano non ritorna. Franca va in casa mente sana ogni giorno per vedere il fidanzato di Maria Luisa che le parla del suo futuro cognato. «Gliene parla con ironia e con disprezzo, perché ora ha veramente pietà di quella povera innamorata senza amore». Un fruscio. «Nessuno», assicurava Cesare dopo aver ascoltato. «Il vento che fa cadere le foglie. Io gli parlerò a Stefano come ho parlato a voi», faceva Franca decisa. «È chiaro? No. Ma io che ho vissuto vi leggo dentro l'anima. Voi non potete parlare chiaro». «Non ho nulla da nascondergli», faceva Franca tremando. «Voi siete una signorina per bene, e se gli parlaste chiaro senza...» «Insomma, non è possibile». Erano quasi le parole di Stefano, sfogliando il libro nella stanza della sottoprefettura. Un passo, una voce. Gente di là dal muro. «Bisogna cercare Maria Luisa», faceva Franca. «Non vi spaventate così. Maria? Maria? Dove sei?» «Vedete, Franca, non poteva ascoltare». Eccola, felice che il fidanzato l'abbia chiamata. «Ah, Maria Luisa, una fresca anima di bimba non ancora donna. Ah, Maria Luisa, una fresca anima di bimba non ancora donna, che si è veduta crescere di anno in anno nella casa che si conosce come la propria casa, la sposa che Stefano avrebbe scelto». Un violento e improvviso rancore serpeggiò nel cuore di Franca, contemplando la sua piccola amica felice. Diventò un pochino cattiva. Le piacque stare a discorrere con Cesare senza rivolgersi a Maria Luisa. Restare indietro con lui se passeggiavano per vedere un'ombra di dolore sul fresco visetto della fidanzata. Le pareva di avere sete, ma la cattiveria non la dissetava. L'ansia dell'attesa si allentava come una molla che non serve più. Lasciava che Cesare talvolta le dicesse le parole buone che aveva in vano aspettate da colui che amava. Non lui, non lui era venuto a colmare il vuoto della sua povera vita di signorina. Era questa la vendetta dell'amore, il frutto amaro e guasto che la sorte le offriva. «Eppure», continuò Cesare, «debo essere sincero. Maria Luisa mi piace per questo. Avete detto che certe volte pare quasi stupida», esclamò Franca con ironia. «Pare, ma è molto intelligente, e io le foggerò un carattere a modo mio. La farò io», ripeté con orgoglio. C'era molto caldo e il ritratto con le sue tinte violente pareva macchiato dal gioco del sole e dell'ombra. Maria Luisa e donna Lucia erano occupate in camera con la sarda. «Oh, io non avrei mai sposato una delle tante signorine che ho corteggiate», continuò Cesare, ma subito volle correggersi. «A meno che», aggiunse, «non ne avessi incontrata una degna di portare il mio nome». Si confuse, cercò di riparare anche alla correzione fatta così grossolanamente. Franca taceva, piegando e ripiegando il suo piccolo fazzoletto», disse. «Allora egli ha ragione». Cesare posò i pennelli, con uno scatto di simpatia, di alta e sincera pietà, sedette ai suoi piedi su uno sgabellino. «Scotetevi, Franca», pregò stringendole una mano come se la stretta avesse potuto dare forza alle sue parole. «Mi punisca il cielo, Franca, se io non vi parlo come un fratello senza pensare al male. Verrà il giorno che non potrete rialzarvi più. Voi, voi che meritate di essere adorata». Si interruppe. La fidanzata, sulla scaletta di pietra, li guarda. Ha ascoltato le sue ultime parole. Si alzò e la costernazione della sua faccia era così infantile che in un altro momento avrebbe fatto ridere Franca. Maria Luisa corse via per la scaletta. La sua veste chiara si mostrò nel viale di Bosso. Sparì. Franca la chiamò, cercandola nel giardino, rincorrendola su per la scala grande nelle stanze tranquille. Erano vicine. «Ascolta, Maria». Mormorò con la umiliante certezza di non essere creduta. Si parlava di Stefano. «Ah!» gridò Maria Luisa voltandosi. «Non nominare Stefano! Tu non hai tradito me sola!» Spalancò la sua cameretta. Entrò. Si chiuse in fretta, sbattendo l'uscio. Franca arrossì violentemente, più che se Maria Luisa l'avesse schiaffeggiata. Pure continuò a chiamare, picchiando con le nocche. «Ascoltami, lascia che ti spieghi! Vattene!» Le rispose Maria Luisa. «Vattene per sempre! Non essere così cattiva e impetuosa! Apri! Ascolta! Vattene! Io non mi lascerò vedere mai più da te! È inutile!» Franca allora non chiamò più. Passò lentamente per le stanze che aveva attraversate di corsa. Nella scala grande le veniva davanti donna Lucia, che esclamava affannata. «Che ha fatto, Maria Luisa? L'ho sentita!» Ma continuò a salire senza badarle. Non faceva a lei le sue domande. Cesare, sul terrazzo, aspettava ancora confuso e costernato che Maria Luisa si fosse calmata. Franca fece per avvicinarsi. Esitò. Si allontanò decisa. Aprì la porta ad agio ad agio. Uscì. La porta si richiuse cigolando. La nebbia densa e affosa scendeva rapidamente dal castello. Scrisse a lungo a Maria Luisa, scongiurandola, rimproverandola. Aveva l'impressione, scrivendo, di parlare finalmente a Stefano a cuore aperto. Se egli avesse letto. Mandò la cameriera perché la lettera fosse consegnata nelle mani della signorina. «O del signor Stefano, se c'è lui», aggiunse, con uno scatto di speranza così acuta che le mordeva il cuore. La cameriera riferì. «Si è presentata subito la signora e non ho potuto fare a meno di consegnare a lei il biglietto». Franca chinò la fronte. Vide donna Lucia con la sua povera lettera fra le grandi e dure mani. «Non ti ho tradita. L'ombra delle cose si fa gioco di noi e della nostra sensibilità». Il sole spariva dietro i monti ferrigni. Franca restava con le braccia sulla ringhiera arrugginita. La cupola nera del cielo si tempestò di stelle. Il vicolo buio parve vuoto e profondo. «E di Madame Angot, sono la figlia, sono la figlia! Franca! Franca? Dove sei?» Il cavaliere Gaudelli cantichiava solo per farsi sentire da Franca quando tornava e il lume non era acceso, ma la sua voce non era molto allegra. «Non sei stata dai Mentesana?» «No. E tu?» «Neppure, ma ho veduto Stefano al circolo». «Ah! Grandi tragedie in casa Mentesana. La tua amica voleva romperla col fidanzato». «Perché?» «Il perché non lo so. Bizze da fidanzati, immagino. Dimenticavo. Tu hai scritto a qualcuno». «Perché?» Stefano mi ha detto di scusare la sorella che non avrà tempo di risponderti, così occupata com'è. «Non vai neppure oggi dalla tua amica?» «Non ti senti bene?» «Benissimo. Non ho voglia. Questo è tutto. Volevo pregarti, aggiunse Franca arrossendo, di mandarmi dalla zia. Un altro inverno qui non vorrei passarlo. Come vuoi. Io non ti contrario mai». Pensò subito il cavaliere Gaudelli che, se la figliola si decideva a partire, l'affare col Mentesana doveva essere sfumato. Ma non domandò niente, perché padre e figlia non avevano mai toccato quell'argomento. «Ti prego», aggiunse Franca. «Vai dai Mentesana e salutali per me». «Sarebbe giusto che la tua amica», esclamò il cavaliere Gaudelli per afferrare qualche lume. «Non ho voglia», interruppe Franca. «Preparo le mie robe, invece. Partiamo il giorno del mio compleanno. Vuoi? Ma io non posso accompagnarti. Se volessi rimandare...» «No, no, babbo, ma diglielo, Ai Mentesana, che parto giovedì». Tornò ad aspettare ansiosamente. Sentiva che Stefano aveva letto e sarebbe venuto. Oppure avrebbe scritto. Ma gli era stata mostrata la sua povera lettera. E se la madre l'avesse soltanto riferita con le sue grosse assiose parole. A ogni scampanellata le si piegavano le ginocchia. Maria Luisa era certo di nuovo tranquilla, come donna Lucia che non si preoccupava più di lei. I giorni volavano via agli occhi delle fidanzate felici, come ali di farfalle irraggiungibili. E Stefano, chiuso nella sua orgogliosa gelosia senza parole, più pungente di un cilicio, tentava, certo, di scordarsi di lei. Annottava di nuovo. Oggi come ieri, domani come oggi. Il tempo immutabile è una ruota enorme che schiaccia sempre qualcuno nel girare su se stessa all'infinito. Nel vicolo, buio e profondo, smorivano rumori e voci. Nel cielo si affacciavano tutte insieme le vivide stelle. Nel freddo splendore, Franca restava immobile, irrigidita dall'inutile attesa che la faceva diventare cattiva. Pensava a Fanny, a zia Fabiana, alle amiche rimaste signorine, al corso di sera, alle solite cose, alla solita gente che forse non si era cambiata. Dove sei, Franca? Eccomi, ancora al buio. Sei stato da loro? Sì, mi hanno fatto mille feste. Buona gente. La signora si doleva che tu volessi partire. Non l'ho mai veduta così gentile. Vanno in campagna domani. Maria Luisa ti manda tanti saluti. Ha detto, mi scusi se non scrivo, perché io non ho confidenza con la penna e con le belle frasi. C'erano tutti quando ha detto così, murmurò Franca esitando. Tutti. Cesare, Antonio, tutti insomma. Ma scherzava, sai. Oh, lo credo. Rivide la sua lettera, caduta nelle mani di tutti. Forse anche Stefano aveva guardato il povero foglio come chi non sa leggere. Che barba lunga, babbo, rise Franca. Non hai quattrini da pagare il barbiere? Hai ragione, esclamò il cavaliere Gaudelli guardandosi nello specchio mortificato. Da quando non aveva più occasione di fare la corte alle signore, egli andava un po' trasandato. A che ora parte il treno di mattina? Sei proprio decisa, bambolona. Non chiamarmi più, bambolona, ti prego. Troppi anni compirò il giorno della mia partenza. Aspetta che io ti possa accompagnare, mi dispiace, sai. Oh, babbo, sapessi che voglia di andarmene. Ma sai che oggi è mercoledì? Lo so, ho preparato tutto. Ebbene, io obbedisco sempre alla mia franchina. Partirai sola. Se invece avessi aspettato. Ma pazienza. Conosci l'orario? No. È facile e necessario. Guarda questa linea più grossa. Si parte da qui. Si seguono questi puntini verdi, vedi. Vedo. E si giunge qui, in casa di zia Fabiana. Ho capito. Nella stazione, rischiarata da pochi fanali, c'era zia Fabiana, così occupata a scusarsi di essere giunta con ritardo e a cercare un facchino, che l'abbracciò in fretta. Guarda tu la roba, esclamò. Vedo un uomo laggiù e corro a chiamarlo, altrimenti non ci muoveremo mai. Franca, con le sue valigette posate sul marciapiedi, aveva l'impressione di continuare l'interminabile viaggio. L'urlio d'un treno che sbucava dall'oscurità coi suoi rabbiosi occhi di brace, il sordo cozzare di ferri e di catene lungo i vagoni fermi, qualche voce, ogni rumore, prendeva un tono vasto, profondo, lontano, cadendo nella gravità della notte. Zia Fabiana tornava, trotterellando dietro un facchino che spingeva un minuscolo barroccio. Zia e nipote si avviarono, uscirono dalla barriera entrando nel piazzale polveroso. Il cadenzato cigolio delle ruote del barrocino precedeva lo scalpiccio dei loro piccoli passi. «Stai bene, Franca?» domandò finalmente zia Fabiana. «Benissimo, e tu? Non c'è male», aggiunse. «Il telegramma è giunto solo da poche ore». Si interruppe, voleva dire che era inaspettato. E il babbo ripigliò. «Benissimo, zia. Come se la passa?» «Ma andrà a Roma», dice che domanderà l'aspettativa. «Fa bene, è un gran brutto paese». «No, zia», mormorò Franca, «brutto non è. È naturale che un forestiero vi rimanga estraneo. Il meglio è che ciascuno stia dove è nato», burbottò zia Fabiana. Attraversarono in silenzio il piazzale, dove la polvere era così alta che pizzicava la gola. Il corso di notte, con gli usci dei negozi chiusi, senza un passante, era più squallido che di domenica, e pareva lunghissimo. Franca aspettò senza impazienza che zia Fabiana aprisse il portoncino col solito piccolo sforzo delle mani inguantate. «Ti aiuto? È fatta». Zia Fabiana girò la chiavetta della luce, pagò l'uomo che portava in casa le valigie e passò nella sala da pranzo dopo aver inchiavacciato il portoncino. Solo allora guardò la nipote nella luce grande della lampada elettrica. Le tolse il lungo velo blu che nascondeva il volto smagrito, la fece sedere prendendole le mani. «E così, Franca?» Franca, stracca e sbattuta dal viaggio, era stupita di potersi finalmente riposare, seduta nel vecchio divano celeste della casa di sua zia, davanti alla tavola, apparecchiata con le posate che riconosceva, così come riconosceva i bicchieri a calice e i piatti col cerchio verdolino. E nello stupore si rivide il giorno del suo primo arrivo nella stessa casa. Era vestita di nero, in segno della sventura che l'aveva colpita. Anche allora zia Fabiana le aveva preso le mani, con la stessa tenerezza. Ebbene, non era la stessa cosa. «Confidati con me!» esclamò zia Fabiana, «come fossi per davvero la tua mamma». Franca ebbe una pungente pietà di se stessa, pure sorrise. «Oh zia, non credere!» Zia Fabiana crollò il capo. «Senti, piccola mia, tu hai il cuore grosso e sei sola, proprio sola!» «Non credere, zia!» ripetè Franca sorridendo. «Non è successo niente alla tua nipotina, proprio niente!» Il pianto scoppiò, irrefrenabile e improvviso, con un singhiozio lamentoso. «Don Agostini ha ragione!» esclamò zia Fabiana costernata. «Guai all'anima indebolita! Il maligno la vincerà senza lotte!» Franca, tesoro, abbi fiducia in me. «Sono soltanto stanca», fece Franca calmandosi. «Non credere che pianga per qualche motivo, non è successo niente. Vedrai che domani, con il riposo, tornerò ad essere io!» Pensava Fanny. Si sarebbe confidata con l'amica delle ore buone e delle ore cattive, che la conosceva meglio di zia Fabiana, la quale si aspettava dei fatti da confessare a don Agostini. Zia Fabiana si era allontanata per tornare subito abbottonandosi un lungo e largo kimono. «Non ne potevo più di tenere il busto», esclamava. «Sono andata a riscaldare una tazza di brodo che farà risuscitare i morti», spiegò osservando la nipote. «Brava zia Fabiana!» Dormì a sbalzi. All'alba si addormentò profondamente. Il sole era alto quando zia Fabiana tornò per la terza volta in punta di piedi. «Zia! Oh, finalmente! Come hai dormito?» Dalle persiane aperte entrò il sole a illuminare vivamente il disordine della camera. «Bella giornata!» annunciò la zia chiudendo i vetri. «Zia», disse Franca, «vorrei andare da Fanny. Sono due passi e torno per la colazione». «Due passi? Ora abita verso la piaggia del fiore, in casa della suocera». «Non ci pensavo più». «Ma non importa, ho da portare qualche cosa a suor Candida. Vado anch'io da quelle parti». Uscirono. Scontenta e delusa, Franca andò per il corso, che di mattina non era affollato se non i giorni di mercato per i contadini che scendevano dalle campagne lontane. Rivide i negozi, che esponevano piramidi di pezze di panno sulle panche messe fuori degli usci. Le vetrine, che pareva non avessero cambiato le loro mostre da qualche anno. La primaria libreria piena di ninnoli da bazar e di libri dalle copertine appariscenti che pochi sfaccendati si fermavano a contemplare. Era come se qualcuno le dicesse «Guarda, guarda le cose che pure ti sono piaciute». Sì, anche lei si era fermata ad ammirare gli oggetti affastellati nelle vetrine. Non c'era niente di cambiato. Davanti al caffè degli accademici si riunivano di già persone che conosceva. La piccola e scelta società cittadina che vegetava tra il primario caffè, le sale del Circolo dei Nobili e il Giardino dei Mammola. «Alta la testa, Franca!» murmurò zia Fabiana. «Non mi sembri più tu. C'è l'ingegnere Paolini che saluta. Vorrebbe avvicinarsi». «Non ti occupare di lui, zia. Non ho voglia di parlare con alcuno». «Come credi, Franca? Volevo che diventassi più seria, ma, santo cielo, ti manca la giusta misura». «Diglielo a don Agostini che la tua Franca si vuole fare monaca». «Non dire sciocchezze adesso. Ci siamo. Verrò alle dodici, ma non salirò. Addio. Addio». Ecco il portoncino. Sulla lucente targhetta d'ottone c'era scritto «Cavalier ufficial Maurino». «Ora Fanny si chiama Signora Maurino». «Povera Fanny». Picchiò. Salì. Aspettò molto in un salottuccio pieno di mobilini, di statue di falso bronzo, di vasi di scagliola, di poltrone e di poltroncine. Un cane di gesso e una grossa tigre di carta pesta accovacciati sul tappeto impedivano di allungare un passo più del necessario. Rammentò il salotto di casa Charlie. Povera Fanny. Dall'uscio male chiuso giungeva una zaffata di olio fritto. Si udì un trepestio. Ecco Fanny, finalmente. «Che improvvisata!» ripeteva Fanny un po' distratta. «Che improvvisata!» «Ti don noia. Volevo salutarti subito». «Oh, figurati! A me no, davvero. Ma io non sono sempre libera. Mamma Caterina, la chiamo così per fare differenza con la mia mamma, è infreddata. Alla cucina ho da badare io». «Tu?» «Preparavo le pappardelle, che a Pio piacciono tanto. La serva sta facendo il battuto. È un piatto così complicato». «Sei venuta ieri», dicevi. «Stanotte». «Che improvvisata! Non ti aspettavo». Franca l'osservava. Era Fanny. Eppure non le pareva più Fanny. Sempre magrina, ma col petto che colmava il corpetto e i fianchi più rotondi. Gli occhi non ridevano più. Tutto il suo aspetto era serio. Non triste, niente affatto. Ma serio. Si vedeva che aveva fretta di tornare alle sue faccende. «Volevo dirti tante cose», murmurò Franca. Si udì una scampanellata. «Eppio!» esclamò Fanny inquieta. «Deve essere tardi». Franca si alzò. «Tornerai?» fece Fanny. «Staremo assieme a lungo». «Verso le quattro Pio torna in prefettura e io sono tutta tua. Tornerai presto». «Arrivederci, Fanny». «Arrivederci. Ma aspetta. Tu non hai veduto neanche Ferruccio. Vieni». Franca la seguì in camera. «Deve farsi il bagno. Mamma Caterina è la mia mano destra. Se sta poco bene come oggi, io sono peggio di un pulcino nella stoppa. Il tempo non mi basta più». Ferruccio aspettava chiotto chiotto nella culla. Era sfasciato e si teneva un piedino con le due mani. «Eccolo, il mio tesoro. Il mio chicco d'oro». Ride. Fanny lo baciò. «Non gli si darebbero pochi mesi. Capisce tutto il mio birboncello. Conosce il babbo, i nonni. Un'intelligenza straordinaria». «Sei contenta?» fece Franca. «Oh, contenti, contenti, non si è mai», rispose Fanny arrossendo. Ma allo sfaviglio degli occhi, il tono caldo della voce, smentivano la risposta. Spiegò. «Non che mi manchi qualche cosa. Sarebbe peccato lagnarmi. Mamma Caterina mi vuol bene. Pio è un angelo. E ferruccio è così bello. Cresce così bene. Prima che venissi al mondo ho pianto tanto. Mi ero messa in mente che sarebbe nato brutto, malaticcio, difettoso. Tu non puoi immaginare, sebbene con la fantasia si arrivi a tutto come si senta di vivere quando hai un figlioletto. E un figlioletto così bello, così grosso, così cheto». Si interruppe, mortificata di aver mostrato la sua tranquilla felicità all'amica che pareva uscita da una malattia. Certo, era stata malata, ma non osò domandarglielo dopo aver parlato di se stessa. Disse soltanto. «Te la sei passata benino laggiù? Benissima. Ora ti faccio conoscere Pio. Un'altra volta, Fanny. Hai paura di Pio? È così buono. Vieni!» La tratteneva adesso per farle un po' di bene, per offrirle un pochino della sua pace. Pio era assai più alto della moglie. I capelli tagliati male gli toccavano il colletto inamidato e le sue pupille erano così rotonde e aguzze che pareva volessero forare i vetri degli occhiali. Franca osservò che faceva uno sforzo per non stare troppo incurvato e aveva grandi e pallide orecchie. Subito ripensò alle paure confessate da Fanny parlando dell'attesa del bimbo. «Ti presento la signorina Gaudelli, era la mia inseparabile amica!» Pio approvò, stringendosi fra le labbra uno dei suoi lunghi e radi baffi. «Ricordo, onore e piacere», brontolò. «Lei era la figlia del cavaliere Gaudelli?» «Sono, sono ancora», rispose Franca. «Sì, sì, buonissima persona!» Egli corrugava la fronte senza motivo, parlando in fretta, con una difficoltà che dava noia. La S gli si arrotolava nella bocca, strisciava, fischiando, quasi non volesse uscire fuori. Era un uomo più brutto di tanti altri, ma per Fanny doveva essere il più interessante personaggio del mondo, dopo Ferruccio, tanto i suoi occhi lucevano di tenerezza se si levavano a guardarlo. Franca volle andarsene, infastidita. Che cosa le dava tanto fastidio? Forse la curiosità con cui Pio non si saziava di esaminarla, o forse la modesta felicità che Fanny voleva nasconderle per compassione. Sull'uscio si accorse che l'amica, avendo cambiato pettinatura, si lasciava scoperta alla fronte. Forse per questo le era sembrata cambiata. «Rammenti», le disse, «quando ci tagliamo i capelli». «Ragazzate», fece Fanny voltandosi inquieta. «Che fa la celeste?» «Oh, la celeste, si prepara per gli esami di licenza liceale». «La celeste?» «Sì, come se non avesse gli anni che ha. Vuole studiare medicina, a Roma». «La celeste?» «Una maniera nuova di cercare marito». «Che ridere!» «E Silvia?» «Non me ne parlare. Fa di tutto per compromettersi sempre più. Te ne parlerò». «E Pieri?» «Non so», esclamò Fanny, quasi allarmata. «Faccio una vita così ritirata. Addio, Franca». Franca passeggiò un pezzetto nella piaggia, aspettando la zia. Povera Fanny, che delusione averla riveduta. Eppure, ella era felice, poiché credeva di avere raggiunto la sua meta. Si sentì di nuovo cattiva come lo era diventata laggiù, quando aveva desiderato di fare del male a Maria Luisa. Si sforzò a ripigliare le abitudini abbandonate per ritrovare il ritmo della sua vita. Non c'era niente e nessuno cambiato. Incontrava gli stessi amici negli stessi luoghi, ma la sua non lunga assenza era bastata farla diventare un po' estranea a tutti. Mary, Nidia e Silvia furono più delle altre, fredde, cortesi e ostili con la rivale che tornava nel giardino del tennis e nelle sale del circolo dei nobili. Nel piccolo stato maggiore, un po' decimato, si erano stabilite nuove amicizie fatte di tenui segreti, di minuscoli intrighi che lei non conosceva. L'ingegner Paolini tornò a frequentare il giardino dei Mammola col ritorno di Franca. Dopo qualche partita le proponeva di passeggiare un pochino. Lungo il viale di Cipressi, egli non le ripeteva più i complimenti e le dichiarazioni d'amore d'una volta, le raccontava i suoi casi con pacata tristezza e riusciva a farle pietà. Così Franca non si accorgeva dell'insidia nuova. Un giorno egli le propose di andare a Villa Rosalia per fare una visita alla moglie che non guariva. Dalle aiuole ben curate saliva nell'aria un acuto aroma di fiori autunnali e di terra fresca che faceva male. Di là dai Cipressi giungevano le voci allegre di quelli che continuavano a giocare. «Una cosa tanto innocente, una gita in automobile», insisteva lui. «Esita ancora? Non dipende da lei sola. Deve forse domandare il permesso a casa come i bambini?» Certo, dipendeva da lei. Non doveva domandare il permesso ad alcuno, ma non rispondeva. Nel viale cupo e odoroso, accanto quell'uomo che l'aveva sempre desiderata, si sentiva fragile e debole. Il suo corpo era pronto a piegarsi, ad abbandonarsi. «Pensa alle chiacchiere dei maligni», esclamò lui. «Non ci sarà niente da ridire. Abbia fiducia in me», continuò sottovoce, con dolcezza, sorpreso o felice che la signorina Gaudelli non si difendesse, come una volta con la sua grazia un po' ironica. «Chissà», murmurò Franca finalmente. «Chissà». Ma chiusa nella sua cameretta, nella notte lunga e senza sonno, ebbe improvvisamente paura e vergogna della sua fragilità. Se almeno lo avesse amato. E più ebbe paura della sua libertà di signorina che i rimproveri e i borbottamenti di zia Fabiana non potevano limitare. «Non tornerò al tennis», si disse con le labbra, quasi ripetesse un'orazione. «Non tornerò al circolo, né al caffè degli accademici, per non vederlo». Ma questi propositi non calmavano la sua inquietudine. Passava i suoi dopopranzi in casa a Maurino. Accanto a Fanny si sentiva allegra e cattiva, divertendosi a punzecchiarla e a rammentarle le ragazzate commesse. In presenza di mamma Caterina, una piccola e rotonda vecchietta che corrugava la fronte senza motivo, come il figlio, non si stancava di ripassare il tempo che erano tutte e due signorine. «Ricordi il poeta Basilisco, a Firenze, che ti ha dedicato una delle sue noiose liriche. E quando sei caduta con Alessi, mentre imparavi a scivolare coi pattini?» Fanny le disse. «La madre di Pio ha delle idee anticucce. Mi giudicava male e ho faticato per guadagnarmi un posticino nel suo affetto. Pio è geloso». «È geloso il tuo Pio», fece Franca con una risata. «E tu?» «Io?» murmurò Fanny, confusa. «Io no. Parlami di te adesso, mentre siamo sole sole. Delmente sana. È finita». «Non è mai cominciata», esclamò Franca, vivamente commossa dell'interessamento dell'amica. «È andata così». Fanny l'orecchio e balzò in piedi. «Il bimbo piange. Torna subito, subito». Ma quando fu ritornata, Franca parlò d'altro. Era felice, Fanny, veramente felice. Volle male a lei, volle male a Ferruccio, a Pio, a mamma Caterina, a tutto ciò che riempiva la tranquilla vita dell'amica. Uscendo dal portoncino di casa a Maurino, che si richiudeva in fretta, si domandava ogni volta perché fosse venuta e perché avesse promesso di tornare. La signora Fanny Maurino non le nascondeva qualche volta, con uno sbadiglio o mezzo represso, che avrebbe preferito essere sola col suo bambino e prendere il tè nello studio del marito, anziché restare in compagnia dell'amica di un tempo. Ebbene, andava per questo, per turbare l'intimità familiare che Fanny si era fabbricata e che gelosamente custodiva. Andò anche la domenica e la sera del terzo giovedì del mese, quando le Maurino ricevevano le loro visite per aiutare a ornare di fiori il salotto e ad offrire il tè. Anche correva a dare un'occhiata a Ferruccio che dormiva. Nel vedersela attorno, premurosa e gentile, Fanny tornava a volerle un po' di bene. Esclamava. «Cara, si direbbe che siamo sorelle!» Certi momenti anche Franca tornava a voler bene a Fanny, sembrandole di rubacchiare una piccola parte della pace che si respirava nelle pulite stanzette di cattivo gusto. Ma spesso, entrando in punta di piedi nella camera in penombra, mentre di là il salottino si riempiva di cicaleccio, piegandosi sulla culla, un groppo di pianto le serrava la gola. Riudiva la voce di Stefano che leggeva. «Erano sogni, sono, e nell'eterna ombra voi resterete, e su voi scende l'oblio del tempo». Inghiottiva le lacrime, che sarebbero state così dolci e benefiche. Lasciando la camera, un sorriso ironico e amaro le stirava la bocca. Talvolta nella saletta incontrava Pio, che sfogava la sua antipatia per il ricevimento di ogni mese con un'aria da uomo superiore che lo immiseriva ancora di più. «Mia moglie perde la testa il terzo giovedì. Comincia all'alba coi fiori, col tè e con l'abito da indosciare la scera. E la mamma?» «Vanno d'accordo il giorno delle visite?» «Sempre», esclamava Pio. «Non ha notato come vanno d'accordo? Paiono madre e figliola». Lei, invece, non va sempre d'accordo con Fanny. «Che dice? Tanto, tanto d'accordo! Come fratello e sorella? Benissimo, come fratello e sciorella!» Franca rideva. La sua lunga canzonatoria risata sconcertava il cavalier Maurino. «Mi spiego», replicava, «per dire che siamo d'accordo». «Non spieghi, non spieghi». «Ah, queste scignorine moderne», faceva Pio ridendo anche lui. «Lei è un bel tipo, scià!» Franca tornava in salotto, seguita dal cavalier Maurino che avrebbe voluto trattenerla e non ardiva. Andava a trovarlo anche nello studio, mentre Fanny in camera accudiva il bimbo. Era di casa e non le badavano. Cominciava a discorrere amichevolmente, ma subito cambiava tono. Si divertiva a stuzzicarlo, a provocarlo per vederlo confondersi, osare e non osare. Pio le si metteva vicino, fissandola coi suoi occhi a guzzi che pareva volessero forare i vetri degli occhiali. «Scià che è molto divertente, lei! Scià che farò qualche corbelleria, io che sono stato sempre un buon figliolo!» «Niente altro che un buon figliolo, cavaliere! Anche un buon marito! Oh, questo sì!» Se entrava Fanny, Franca si rallegrava. «Eri qui?» esclamava Fanny, che si sbiancava vedendola nello studio. Franca le faceva festa, la prendeva per la vita, si mostrava così contenta della sua presenza che Pio la sbirciava turbato, sorpreso, irritato, aprendo un giornale. Picchiò più volte, si affacciò la servetta. «La signora non c'è!» «Neanche la signora Caterina?» «No, signora, sono uscite col bambino!» Risalì per la piaggia e le gambe le dolevano quasi avesse fatto miglia e miglia. Per la seconda volta Fanny le faceva dire di essere uscita. Un portoncino che resta chiuso mette di malumore. Si affacciò, col volto tra le palme non guardò fuori la strada, ma contemplò le diverse e monotone occupazioni che avrebbero dovuto ricolmare il vuoto delle sue inutili giornate. La posta che porta il giornale diretto al babbo e letto da zia Fabiana, un'occhiata alla vetrina della modista, una capatina al circolo artistico dove c'è Liliana che ora si interessa d'arte oppure al tennis. No, al tennis non più. Lì aspetta Paolini che insiste con la sua voce dolce e sottomessa di uomo maturo. Oppure in casa Maurino. Ogni mattina si proponeva «Oggi non vado da Fanny» e più tardi, meccanicamente, scendeva per la piaggia del fiore. Fanny la sorvegliava, non la lasciava sola per casa. Lei non si offendeva. Vedeva l'amica ingelosita, il cavalier Maurino turbato e rabbuffato. Le faceva piacere. Talora gli sporgenti occhi dell'amica apparevano implorare «Lasciami, perché volermi fare del male?» «Perché?» si domandava Franca col volto tra le mani. «Io mi diverto a farla soffrire per un tradimento che non le farò mai. Perché?» «Ma io non ero cattiva», si rispose. «Il mio cuore era ricolmo d'amore e di devozione. Io ti avrei adorato. Ero venuta laggiù per te, per te. E tu non mi hai voluta. Ero sola. Sono ora più sola. Forse comincerà per me la mala vita, la mala vita d'una signorina per bene. Che io cerco nel desiderio di chi mi desidera il tuo desiderio. Accanto a Paolini, che non amerò mai, sono piegata dalla tentazione di lasciarmi stringere dalle sue braccia. Perché penso a te, alle carezze che tu mi hai negate. Sono diventata cattiva. Mi diverto a turbare un uomo ridicolo e meschino come il marito di Fanny, perché penso a te, al turbamento che tu avresti provato se tu mi avessi voluta. Divento sempre più cattiva. Mi pare di essere affamata. Forse la mia fame si cheterà facendo male a qualche povera creatura che si è fatto un cantuccio riparato nella vita. Sentì scorrere una lacrima, grossa e tiepida fra le dita. No, lei non voleva essere cattiva. Non voleva che qualcuno continuasse a desiderarla, come il cavaliere Maurino e l'ingegnere Paolini, e che le amiche fossero gelose di lei come Fanny o come Nidia o Mary. Pure qui, in mezzo alla solita gente che crede di conoscermi, io non posso essere io, si disse. Pensò con ribrezzo a un monastero. Vide delle cellette nude, una grata nera. Sentì acutamente la sua gran voglia di sole, di libertà. Zia Fabiana chiamava entrando. Piangi. Niente affatto, zia. Ah, Franca, Franca, mormorò zia Fabiana. Tu non vuoi proprio avere confidenza in me. Tu mi nascondi qualche brutta cosa. Zia, disse Franca, e guardando dinanzi a selle, sembrava di scorgere una chiarezza verde-azzurra. Non hai tu un podere che io non conosco, tutto mandorli e olivi? Dio buonino, gridò zia Fabiana. Vorresti andare a Pineto? Non ti arrabbiare, zia, fece Franca dolcemente. Sono tanto piccola, eppure non c'è un posto per me nel mondo che è tanto grande. Franca, esclamò zia Fabiana allarmata, guardando in faccia la nipote. Che hai? Non so. Pure soffro, zia, come se un diavoletto fosse penetrato nel mio cervello. Vorrei andarmene in qualche luogo che non conosco, come nelle fiabe che uno cammina, cammina. Andremo dove tu vorrai, fece zia Fabiana uscendo in fretta. Intanto faccio chiamare il dottor Balsamini. Il vecchio medico di famiglia le toccò il polso, le guardò le gengive. Restò un momento perplesso. Un principio d'anemia, annunciò finalmente. Aria buona, cibi sani, riposo. Zia Fabiana disse. Vorrebbe andare a pineto. Ecco, rispose il dottor Balsamini, soddisfatto, come chi ha trovato quanto cercava. Un po' di campagna. Siamo in autunno oramai, osservò Fabiana. Ma in primavera? Deve essere bello il tuo podere, fece Franca lentamente. Tutto mandorli e olivi. Il dottore guardò Franca, smagrita, disfatta, con gli occhi lucidi, pur senza avere un decimo di febbre, e crollò il capo. Sentenziò. La campagna ti gioverà. Aggiunse per confortare la signorina Fabiana. Basterà qualche mese. Vedrà che miracoli. Fabiana andava su e giù per il salotto, portandosi le mani fino ai capelli, balbettando. Di questi tempi. Che dirà la gente? Quanto più considerava la innovazione ordinata dall'infallibile dottor Balsamini, tanto più si sentiva infelice. Ah, Camillo, Camillo, ripeteva fra sé e sé, non riuscendo a perdonare al fratello di averle lasciato spensieratamente la figliola sulle braccia. Finalmente si calmò, si rassettò e andò in camera della nipote. Porteremo almeno un paio di casse lassù. Quanta fatica per un mese. Sfogò timidamente. Da tanto che manco da Pineto. Credi che sia bello? Franca fu per rispondere. Restiamo. È inutile che andiamo lontano. Ma subito, con la rapidità dello svolgersi di una pellicola sul telaio di un cinematografo, rivide le strade della città, le sale ben note. Mary e Nidia diventate pungenti. Fanny estranea e ingelosita. I salotti delle amiche di zia Fabiana, dove si incontravano le stesse facce, si ripetevano le stesse chiacchiere, si accettavano le stesse paste comprate da tutti nella primaria pasticceria. Sulle rapide visioni si allungò la figura di Paolini che aspettava e di nuovo sentì la paura e la vergogna della sua fragilità. Zia Fabiana esclamò. Non sei contenta neppure di andare in campagna come volevi tu. Sì, zia, sono contentissima. Non serve davvero che mi sacrifichi, borbuttò la vecchia signorina. Non serve. Ti vedrò sempre così. Tacque ripigliò con voce bassa e incerta. Volevo pregarti prima di partire. Ti farebbe gran bene discorrere con Don Agostini. Oh, zia, non mi fare spaventare. Non si tratterebbe di confessarti se lo sentissi discorrere. Non andrò lassù per morire, esclamò Franca sorridendo con un piccolo brivido. Al ritorno te lo prometto, aggiunse per non addolorare troppo la zia col suo rifiuto. Al ritorno mi farai fare amicizia con Don Agostini. Non ti ho detto che mi farò monaca. Zia Fabiana brontolò un pezzetto, ma siccome la nipote non apriva bocca, finì col rannicchiarsi nel suo posticino zitta zitta. Lo stradale, diritto e largo, era ogni tanto serrato da povere case di qua e di là per continuare tutto bianco in mezzo a grandi distese di orti e di campi. Annottava rapidamente. Franca salutò la luna rossa che mostrava la sua faccia burlona fra due gracili pini. Mi porterà fortuna, esclamò. Qualcuno si affacciò sull'uscio, chiamato dal rotolio del legno. Una ghirlanda di bambine che facevano il giro tondo si sciolse impaurita dal cavallo. Villa Fabiana comparì finalmente in fondo a una processione di alti cipressi che apriva la via fino al portoncino. I contadini vennero incontro alla padrona, che non rivedevano da anni. Non conoscevano Franca, ma le fecero ugualmente festa. Salirono una rozza scala di pietra. Entrarono in piccole stanze dal basso soffitto di travicelli. Come vedi, fece zia Fabiana, non è una gran villa. Non importa, esclamò Franca. Abbiamo tenute le finestre spalancate finora, spiegò una ragazza con entusiasmo, quasi volesse dare una buona notizia. «Si sente per l'aria netta», rispose Franca, e tutti si guardarono soddisfatti. Il silenzio della notte in campagna non somigliava affatto al silenzio che l'aveva tante volte oppressa nella smorta città di provincia o nel paese di Stefano. Così profondo e calmo dava la sensazione che il sonno, calato su tutto e su tutti, le accarezzasse le palpebre ardenti per farla dormire. All'alba corse fuori, sull'erba molle di rugiada. Beve il latte che nonno Paolo mungeva nei grandi secchi lucenti. Si fece conoscere dai mastini. Offrì la verdura ai miti conigli. Tornò a casa carica di rami d'edera e di ginepro. Nel bosco e sulle prode crescevano liberamente molti rosai e varie piante che in primavera sarebbero fioriti. Disse. «Bello sarebbe, zia, poter rimanere qui». Zia Fabiana crollò il capo. «Ti hai ragione», esclamò Franca, «ma credo che sarei stata felice se fossi nata qui come Maria e i suoi sette figlioli». La casa rustica, sfornita di tutto quello che poteva servire a due signore vissute in città, le piaceva perché il sole entrava a fasci di luce dalle minuscole finestre. Era domenica e accompagnò la zia nella chiesa, lontana un buon miglio dal podere. Le piacque anche la chiesa, pulita e ariosa, affollata di contadini venuti dai poggi lontani, dai casolari sparsi nelle vallate, con abiti da festa e scarpone polverate. Ascoltò commossa la prima messa. Quando il prete si voltò a benedire la gente inginocchiata, sentì che Dio era presente e benediceva il suo povero cuore inquieto. Gli amici dei contadini di Villa Fabiana si fermavano, passando per la viottola che serpeggiava dietro la casa colonica. «C'è la padrona?» domandavano incuriositi. «È venuta con una sua parente», rispondeva Maria. «Di questi tempi?» «La signorina deve essere malata», spiegava nonna Lisa. «Avrà bisogno di cambiare aria». «È magra e bianca che pare fatta di cera», aggiungeva Maria. «Cerca sempre fiori nel bosco», informava Nello. «Chi cerca fiori, cerca dolori», sentenziava nonna Lisa. «Chi tornava alle sue faccende salutandosi?» «Chi ripigliava il cammino interrotto?» Tornava a casa con le scarpette bianche di polvere e col suo vivace carico di tralci verdi e di bacche scarlatte. Si stancava subito. Se era lontana da Villa Fabiana, si riposava guardando le donne che maciullavano la canape o sraiandosi in un rossiccio nebuloso campo di sparagi. Tutto le sembrava ancora nuovo e piacevole. All'improvviso il tempo si cambiò. Zia Fabiana disse «È meglio andarcene prima che la campagna diventi troppo uggiosa». La vecchia signorina era convinta che fosse perfettamente inutile continuare a sacrificarsi per obbedire al dottor Balsamini. Sua nipote diventava sempre più pallida e portava un po' d'affanno dalle brevi corse fino al bosco. Ma Franca non volle lasciare Pineto. «Lascia che mi sazi di veder piovere», pregò. «Piove in altro modo sui campi. Non si vede il fango. Volentieri ella sarebbe uscita fuori perché la prima pioggia la ristorasse bagnandola così come ristorava la terra tutta inaridita. Ma era sempre stanca. Le sue gambe diventavano pesanti. Guardando piovere con la fronte sui vetri della finestra sentiva scorrere i fili d'acqua tra i capelli. Tanto era vivo il suo desiderio di ristorarsi come la terra». Pioveva sempre. Si occupò ad aggiustare i mobili della casetta a suo gusto con l'aiuto di Giannina. Spolverò e mise in ordine i libri ammucchiati in una piccola stanza. sfogliando qua e là i libri abbandonati si mortificò accorgendosi di essere molto ignorante ed ebbe curiosità di imparare. Cercò un calamaio. Pregò Anselmo che le comprasse della carta da scrivere in paese. Subito rammentò le osservazioni di Fanny informando di Celeste. «Povera Celeste, forse aveva ricominciato a studiare per quello stesso impeto di volere fare qualche cosa». Chiuse l'uscio a chiave perché neanche la zia la vedesse. Tornava il tempo dei compiti fatti in cucina davanti la finestra spalancata sul verde. Aprì un volume di storia e lesse «Ferrara». Pensò a tasso al suo infelice amore. Le righe della pagina si confusero. Una data. Le venne dinanzi la figura di Parisina e il nome del poeta che l'aveva animata. Una secca notizia in fondo alla pagina ripetè a fior di labbra un verso d'amore. La sua mente si rifiutava oramai alla disciplina dello studio. Ignorante eppure saputa davanti il libro di storia. Come davanti la vita, disillusa senza aver vissuto. Non importa il non aver vissuto né bene né male quando ci si illude di riempire le nostre giornate. Se si fosse fabbricato l'avvenire come Luisa o come la piccola maestra della scuola rurale che passava in bicicletta sera e mattina sullo stradale fangoso. Ma bisognava cacciare le malinconie. Raccogliere le forze che ognuno di noi ha dentro di se stesso. Non piegarsi. Vincere. Vincere che cosa? Udiva la voce di Paolini di là e le esclamazioni di piacere di zia Fabiana. Venga, venga, glielo dica lei a quella benedetta ragazza. C'era un po' di sole fuori sulla terra ammollita. Doveva fuggire, nascondersi. Ma essi entravano. «Franca, Franca!» esclamava zia Fabiana. «Guarda chi c'è!» Le gambe le tremarono così forte che temette di cadere. Salutò, cortese e fredda. «Andavo con la mia Fiat», spiegava l'ingegnere. «Mi sono detto, sono a pochi chilometri da Pineto. Andiamo a salutare le signore Gaudelli». «Glielo dica lei!» ripeteva zia Fabiana. «Che dirle?» fece Paolini. «Al circolo non si fa più niente. Uno squallore. La Charlie maritata. La Santi a Firenze. La signorina Mori a Roma. La signorina Gaudelli in campagna», interruppe Franca cercando di sorridere. «È lo stesso». Zia Fabiana si alzò per preparare qualche cosa da offrire. Franca avrebbe gridato «Non lasciarmi». Si rannicchiò, piccola piccola sul divano, come una bimba che aspetta di essere battuta. Paolini mormorò. «Sa che non la riconoscevo. È un volersi uccidere il suo. Ma perché?» La sua voce era dolce e sommessa. Franca socchiuse gli occhi per afferrare nelle sue parole le parole che Stefano non le aveva detto. «Mi dica di tornare», pregava Paolini. «Le riaccompagnerò tutte e due, va bene? Tutte e due. Posso tornare?» «Torni», rispose Franca turbata. «Nella mia Fiat c'è tanto posto per lei. La porterò via un bel giorno, lontano, lontano, e mi sembrerà di sognare. Ho aspettato tanto». «Ma no», esclamò con uno slancio di pietà guardandola. Scherzavo. «Verrà sempre con lei la sua autorevole zia». «Quando tornerà?» «Mi permetta di tornare all'improvviso, perché mi illuda che vengo a rapirla». La nebbia livida e pesante calava di giorno sui campi in mezzo spogli. Gli alberi si sarebbero caricati di foglie nuove, i campi avrebbero verdeggiato. Tutto aspettava il ritorno del sole. A sbalzi, Franca aveva la sensazione di dovere aspettare anche lei, ma subito chinava la fronte, oppressa. Il suo avvenire era limitato e senza colore come l'orizzonte che la nebbia avvicinava sempre di più. Con un tremito, che saliva dalle calcagne alla nuca, ricordava la promessa fatta a Paolini. Egli sarebbe venuto con la sua rombante macchina a liberarla dal torpore in cui era caduta. Pentita, spaurita, le pareva di essere stata raggiunta, afferrata dalla mano di qualcuno che l'avesse inseguita. Zia Fabiana borbottava. «Oggi si fa una bella funzione a San Francesco e i salotti sono già riaperti. Chissà che diranno di noi. Siamo ancora a tempo per dimostrare che siamo andate in villeggiatura, ma se si continua a stare quassù con questo tempo...» Cambiava tono di voce e pregava umilmente. «Franchina, tesoro, se andassimo via domani col treno! Non aspettiamo quel benedetto Paolini. Vedrai che si è scordato di noi. Non verrà, te l'assicuro io». C'era un solo lumi a petrolio nella casa e la sera, se non voleva stare all'oscuro, Franca era costretta a sedere a fianco della zia che parlava senza stancarsi dei disagi di Pineto e dell'urgenza di tornare in città. La sera del sabato, tornando dalla fiera, Anselmo portava la posta. Franca scorreva in fretta le lettere del babbo con una impazienza che le lasciava la bocca amara. Cercava nelle ordinate righe in calligrafia un nome che sapeva di non dover trovare. Zia Fabiana, che scriveva a tutte le sue amiche e riceveva un fasso di lettere e di cartoline, leggeva, tornava a leggere ridendo da sola, corrugando la fronte. «Senti, senti!» ripeteva entusiasmata. Franca fingeva di contare le maglie ed uno scialletto da regalare a nonna Lisa per non badarle. La vecchia signorina, che aveva bisogno di commuoversi e di sdegnarsi dietro una fila di pettegolezzi così come si ha bisogno del pane, si affliggeva di non poter commentare assieme a qualcuno i fatterelli che veniva a conoscere. «Senti, senti!» esclamò un sabato sera voltando il foglio d'una lunga e fitta letterina. «Ah, quella povera Liliana!» «Quindici, sedici!» contò Franca. «Che le succede?» «Ah, uno scandalo! Già lo aveva scritto in faccia che dovesse finire così!» «Ebbene!» ripete Franca. «È a Milano, con un tenentino, un certo scalvati. Più si campa e più brutte se ne vedono!» «Perché, zia?» «Come perché? Me lo domandi?» «I suoi dicono che è in casa di parenti, ma non ci crede nessuno!» «Ha moglie lo scalvati?» «No, ma non la sposerà!» «Lo dicono tutti che non la sposerà! È un cattivo soggetto, lui!» «Se si volevano bene!» fece Franca lentamente, quasi parlasse in sonno. «È stata fortunata Liliana!» «Se ti sentisse qualcuno!» «Lassa che parli a cuore aperto!» esclamò Franca posando il lavoro. «Liliana non fa male agli altri. Ne fa solo a se stessa. Ma anche a se stessa non fa un male troppo grande. Ha il coraggio di godersi la sua ora di felicità. Ecco tutto!» «Franchina, tu sragioni!» «Liliana!» «La sparlavano tutti. Anche tu!» «Si è veduto che...» «La sparlavano mentre ella era degna del rispetto e della stima di ognuno.» «Liliana?» «Sì, Liliana. Una ragazza onesta, ma non l'avrebbe creduto nessuno. Le tue amiche si limitavano a considerare certe maniere che Liliana imparava per essere, come si dice? Già, si dice, all'altezza dei tempi. Le sue sorelle...» «Poverine!» «Lo dici tu stessa. Poverine! Non possono fare altro che compassione.» «Ma vedi, Franca», mormorò zia Fabiana, «è così bello sentirsi la coscienza tranquilla, non avere rimorsi.» «Rimorsi! Perché Liliana dovrebbe averne? Il rimorso nasce dal male che si fa agli altri. Liliana è libera. Non tradisce un marito, dei figli. Non tradisce neanche un'amica. Perché sacrificarsi se lo amava e se lui l'amava? Rimorsi! Perché? La sua gioia non è tutta fatta di peccato. La mamma, le sorelle, così per bene! È bella, Liliana!» murmorò Franca. «Ha dieci anni meno di me. È così fine. Non sarà sempre così bella e così fine. Ma, tesoro mio, un buon matrimonio! L'amore benedetto da Dio, approvato dal sindaco, dal prete e dalla gente. E se non si può?» «Franca!» balbettò Fabiana, turbata. «Io non ho mai pensato a queste brutte cose!» Aveva l'impressione che la sua nipotina fosse sull'orlo di un precipizio e non avesse la forza di trattenerla. «Che cosa assurda la vita di una signorina di casa!» ripigliò Franca. «Tu ed io siamo delle signorine di casa!» Sì, Liliana ha avuto del coraggio. Quando avesse soffocato la sua giovinezza col peso della rinuncia, quale premio le avrebbe dato la buona società che oggi si scandalizza? Nessuno avrebbe creduto. Nessuno si sarebbe liberato dal suo dubbio!» La voce le si arrocchì. Murmurò, pensando a Stefano. «Come fare credere!» Levando lo sguardo vide zia Fabiana così sconvolta e spaventata che ne ebbe pietà. «Zia», fece dolcemente, «non pensare anche tu male di me perché ti ho parlato con confidenza. Il giorno che non fossi più quella che Don Agostini chiama una ragazza onesta, io morirei di dolore. Perché? Non lo so. Eppure ho indulgenza per Liliana e anche per Silvia». Zia Fabiana, riconfortata, le afferrò le mani, piena di riconoscenza. Franca guardava dinanzi a sé, trasognata. Continuò pensando a Paolini, che doveva tornare. «Ma se l'avversione al peccato è così forte, non è merito mio!» «Oh, mamma, che mi senti! Come sono contenta di te!» la interruppe zia Fabiana. «Quanto abbiamo chiacchierato! Il petrolio è finito nel lume!» Franca tacque, smarrita, dolente. Quando si sfoga e non si è abituati a parlare di se stessi, si resta col cervello vuoto e la bocca amara. «La campagna non ti giova!» ripeteva zia Fabiana. «Non ti ostinare a non voler partire!» Per non sentire le stesse cose, dalla mattina alla sera, Franca andava da nonna Lisa col lavoro. Pioveva di rotto. Le donne con la calza e la rocca si riunivano attorno al focolare acceso, dopo aver governato le bestie nella stalla e sbrigate altre faccende. Anche gli uomini, siccome non si poteva lavorare nei campi, sedevano con le donne, fumando, sorseggiando un bicchiere di vino e sputando a terra. Franca era quasi offesa da molte piccole volgarità e dalle violenti bestemmie che il piccolo santino imparava a ripetere con grande allegria degli uomini e delle donne. Tuttavia restava presso il focolare acceso. Era sola. Ma quella solitudine non le faceva male, perché non doveva nascondere i suoi accasciamenti e i suoi lunghi silenzi a gente che non poteva fare parte della sua vita. Anche le piaceva restare per aspettare i bambini che tornavano bagnati e intirizziti dalla scuola, coi piedini che sapevano chilometri e chilometri. Guardava i quadernucci, i libri sciupati e sporchi, interessandosi dei loro compiti e delle lezioni. Nonna Lisa disse. La signorina farebbe più della maestra. Maria replicò. Almeno non perderebbero tanto tempo quando smette di piovere e c'è da aiutare nei campi. Franca esclamò. Volete che insegni io ai bambini? Nonno Paolo la guardò con diffidenza e Anselmo riempì la pipa senza parlare. Nonna Lisa rispose per educazione. Come vuole la padroncina? La signorina è tanto istruita, informò Giannina. Sapeste quanti libri legge? Il libro è una cosa, fece nonno Paolo, ma per insegnare ai bambini ci vuole amore. E come Franca lasciò la compagnia, Anselmo ripigliò. Non solo amore, ma anche la buona salute. È la nipote della padrona, fece nonna Lisa, e io non le direi di no. Ebbene, esclamò Anselmo, non le si dica né di no né di sì. Andranno a scuola, al solito, e il dopo pranzo andranno a fare i compiti con lei. La loro maestra li insegna bene. Così, per non dire di no, i figli di Anselmo andarono a fare i compiti nella grande cucina di Villa Fabiana. Franca si divertiva a fare scuola ai bambini. Le pareva di essere la piccola maestra che passava a sera e mattina in bicicletta. Ma se udiva lontano, smorzato, il rombo di un'automobile nello stradale, si portava le mani alle orecchie per non sentire, e un pungente formicolio le saliva nelle gambe. Perché gli aveva detto di tornare? I bambini aspettavano pazienti. Signorina, spiegava finalmente qualcuno, non abbia paura, non era un tuono. Ti annoierai della tua scuola, esclamava zia Fabiana. Franca rideva. Non posso credere che tu voglia restare qui. Oh, certamente no, la rassicurava Franca. È come se ti fossi fatta monaca. Si era fatta monaca, perché no? In un monastero senza chiostri e senza porte e senza regole. Tutto arioso, con una chiesa immensa che all'erba per pavimento, il cielo per cupola e i cipressi per colonne. Ma si stancava. I bimbi che venivano, le manine cariche di doni e di fiori, facevano troppo rumore. Gran brusio di voci e trepestio troppo grande di zoccoletti. Katie, bambini, Katie! Restava attonita, smemorata. Quanti bambini! Tanti, lontani, non suoi, che non può amarli tutti così come ne avrebbe amato uno solo. Uno che si tiene il piedino e ride chiotto chiotto nella culla. Katie, bambini, oggi non studieremo nulla. Andiamo a cercare le lumachine e gli sparagi nel bosco. Andava ad agio ad agio. Non sarebbe brutto vivere così, senza aver bisogno di nulla. Neanche delle lettere del babbo che vengono da Roma. Neanche delle vostre cartoline, celeste, nidia, meri, che vengono con un punto interrogativo. Anselmo non può portare ciò che Franca sa di non dover aspettare. Gli ha scritto una lettera lunga, una lettera d'amore, che rimarrà senza risposta, come quando chiamava Maria Luisa attraverso l'uscio chiuso. Egli è forte e prudente, e Franca non è che una povera ragazza innamorata. Forse la sua ardente lettera è andata nelle mani di Donna Lucia, o sotto gli occhi di Antonio. Si appoggiò al tronco di un alto cipresso. Aveva l'impressione di dover cadere. Una donna che raccattava frasche e cantava, «Chi è matto e non matteggia perde la gioventù». I bimbi le stavano intorno da un pezzo. Certo, la signorina non rammentava più la strada. Santino, il più piccolo, si fece coraggio e tirò una scocca del suo grembiule. Nello disse, «Al bosco si va di qua, signorina». «Sì, cari, andiamo. Mi riposavo un poco, ma ora sono più forte di voi. Andate avanti». I bimbi corsero con uno svolì oscuro di grembiulini. Si era dovuta slogare un piede. Il malleolo cedeva come fosse molle. Afferrò un palo, cercò di tornare a casa, appoggiandosi. Ma lo sforzo di muovere i suoi passi le faceva sudare la fronte. Anche le gambe erano deboli, quasi che le vene si fossero vuotate del sangue. E non reggeva nel suo gracile corpo, che diventava massiccio, pesante. I bimbi correvano verso il bosco, senza voltarsi. Il dottor Balsamini, venuto col cavalier Gaudelli, le toccò il polso, esaminò le gengive, le palpebre. Tornò a domandare, «Le gambe soltanto?» «Sì, dottore. Provati a camminare». Franca camminò un poco. «Faccio troppa fatica. E poi, vede, se voglio alzare i piedi da terra per salire le scale, non posso». Il vecchio dottore Balsamini si accarezzava la barba perplesso. «Fenomeni nervosi», disse finalmente. «Guarirai da sola, non ti stancare». «Si è tanto stancata a fare scuola», esclamò zia Fabiana. «Ecco», approvò il dottore Balsamini. «E poi quassù è troppo malinconico. Tutto deve contrariare le tue abitudini». «No, dottore, io ho sempre amato la campagna». «Non può essere. Una signorina come te. E via, dunque. Riposo, aria buona, a mangiare quel che ti piace. E appena puoi, torna a casa, piccina, senza fare capricci». Partito il dottore, il cavaliere Gaudelli non voleva restare a Pineto. «Torno a Roma. Ho lasciato tutto in aria. Appena Franca si rimette, tornate a casa». Egli era stucco di levarsi all'alba, coricarsi al tramonto, bere uova fresche e contemplare il panorama. «Ti condurrò a Roma, bambolona». E zia e nipote rimasero di nuovo sole. Ma Franca non si rimetteva, poiché non usciva, non mangiava più quasi nulla. I bimbi venivano per portarle i fiori che le piacevano e che lei non poteva cogliere con le sue mani. Rami d'edera, di ginepro, di rosmarino. Franca ringraziava, ma non si rallegrava. Pregava la zia. «Butta via tutto». Voleva guarire, camminare, correre. Non c'era cosa più bella al mondo che quella di camminare sulle gambe che ti tengono eretta. «Zia, vorrei tornare. Ricordi che ti dicevo non voglio morire quassù?» Franca guardava dal suo posto, oltre la finestra spalancata, i campi che splendevano nel sole. Zia Fabiana pregava in camera per lei che non voleva guarire. Ora non pensava più alle occupazioni lasciate, alle amiche, alle comodità della casa. Solo Franca occupava tutto il suo pensiero. Il dottore Balsamini stava per giungere. Il fratello le aveva scritto che sarebbe venuto appena avesse potuto lasciare i suoi affari. «Dottore», disse Franca, «ora non posso neanche lavorare. La mano si rifiuta, come se fosse senza muscoli». «Non è nulla», fece il dottore allarmato. «Ti trovo meglio». «Non mangia niente, non si nutrisce», si lamentò zia Fabiana. «Questo è il vero male», rimproverò il dottore. «Devi sforzarti a mangiare, perché vedi, tu sei troppo magra, e quando avrai consumato questo po' di carne sarà più difficile ancora il guarirti». Sull'uscio cominciò a pulirsi gli occhiali. Disse. «Non mi mandi più a chiamare. Non posso fare nulla io. Qui ci vuole uno specialista di malattie nervose». «Ma come fare mettere Franca in viaggio? Che suo padre mandi lo specialista quassù, perché la Franca potrebbe muoversi». «Davvero?» «Sì, bisognerebbe però che qualcuno avesse tanto potere da suggestionarla. Dire a Franca le parole che fecero svegliare Lazzaro dal sonno eterno. Alzati e cammina». «Ma io non ho questo potere sulla malata, e forse neanche lei, signorina Fabiana». «Oh, credo di no, credo di no», murmurò zia Fabiana, costernata. «Ma come far venire uno specialista quassù?» Il dottor Balsamini crollò il capo. «Con molti quattrini», borbottò. «Spargere sulla strada da Firenze o da Roma una bella fiorita di quattrini». Il cavaliere Gaudelli scrisse. «Vorrò subito e troveremo la maniera di mettere Franca in viaggio, ma non ho i mezzi, tanto più che sono a metà stipendio, di mandare uno specialista in campagna così lontano. Farò per mia figlia, come sempre, quanto sarà umanamente possibile di fare». E alla zia e alla nipote parve di essere due creature abbandonate in un cantuccio scuro del mondo. La zia pregava e si lagnava. «Franca, tesoro, provati ad alzarti. Il dottore dice che potresti farlo se volessi. E mangia un pochino di più. Dimmi che cosa appetisci e manderò Anselmo in paese per te. Provati, Franca. Vuoi che restiamo qui tutta la vita?» «Dio, Dio, perché siamo venute quassù». «Zia», ripeteva Franca, osservandosi la gracile mano che pesava tanto a sollevarla un poco. «Lasciami in pace». E allora rimpiangeva il focolare di nonna Lisa, dove si era tante volte rifugiata quando credeva di essere irrimediabilmente infelice. No, non era del tutto infelice quando poteva camminare e perdersi nel bosco e prendere i doni che i bimbi continuavano a portarle sempre più timidamente. «Franca, Franca!» esclamò zia Fabiana, rossa di gioia. «Ora potremo andarcene. L'ingegnere Paolini si è ricordato di noi». Il cuore di Franca parve spezzarsi. Rispose, «Non voglio che entri qui». «Certo, prima debbo aggiustarti un poco, sei tutta spettinata». «Non voglio, mandalo via», ripetè con voce arrocchita. «Franca, tesoro!» pregò zia Fabiana. «Un'occasione così bella, io non lo aspettavo più». «Oh, Franca sapeva che sarebbe venuto con la sua automobile. Per lei». «Ma lei non voleva fare pietà a quell'uomo che l'aveva desiderata quando era bella ed agile. Non avrebbe voluto fare pietà neanche a Stefano. Forse non amava più neanche Stefano. Se egli fosse venuto, l'avrebbe respinto. Egli era un uomo come un altro, più prudente e più egoista di un altro. Non lo amava più. Era innamorata dell'amore che a mille e mille volti, che non si possono guardare, e ricolma ogni atomo, ogni raggio di sole, ogni voce della terra. Come stanco e pesante il suo gracile corpo». Si lasciò pettinare, aggiustare. Domandò. «Gli hai detto che sono malata?» Zia Fabiana rispose di sì. «Fallo entrare», disse allora Franca. «Hallo stesso pietà di me, anche senza vedermi». Zia Fabiana si allontanò in punta di piedi. Sperava che l'ingegnere Paolini avesse potuto dire lui a Franca «Alzati e cammina». Egli entrò, alto e grande, sull'uscio in ombra, somigliava Stefano. Le si sedette vicino, le prese le mani dolcemente. Le disse. «Vi sembrerà di avere sognato un brutto sogno, ma lasciate questi luoghi monotoni e tristi. Voi tornerete a essere la Franca che tutti aspettiamo». «Tutti», sorrise. «Franca è finita», rispose. «Non vi accorgete che Franca ha cominciato ad andarsene. Ella ha camminato, ha camminato, e ora è stanca senza essere arrivata. «Arriverete, Franca, riprenderemo assieme il cammino». Franca sorrise per non piangere. Pensò. «Volevo bene a lui solo. Non sapevo di volergli tanto bene». Guardava dinanzi a sé, con occhi ingranditi, velati di lacrime. L'altro mormorava con sincerità. «Sono qui per farvi del bene. Se voi volete seppellirò il mio amore. Non chiederò altro che proteggervi. Andremo a Firenze. Guarirete». Le parlava ad agio, come si parla a un bambino malato. «Provatevi», continuava. «Eravate così sicura di voi. Provatevi». «Datemi un foglio di carta», pregò Franca. Cercò di stringere la matita fra le dita inerti. Si sforzò a scrivere. «Ste». Il foglio scivolò sulle ginocchia e la matita cadde. Paolini la raccattò premurosamente. «È inutile», rispose Franca. «Tutto è inutile oramai. Se ne vada. Dica quel che vuole, ma se ne vada». Voltò la faccia verso la finestra, aspettando di udire il passo di Paolini, che si allontanava.